Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati in questa sede prestigiosa per l'inizio dei lavori di questo incontro scientifico-giuridico sul tema delle minoranze storiche e altre minoranze, che si svolgerà oggi e domani mattina. Io, come primo passo per avviare i lavori, vorrei chiedere in particolare alla senatrice Elena Testor, che è procuradora del Comune General de Fassa, che è il nome dell'ente sovracomunale di autogoverno dei comuni fassani, che ringrazio naturalmente per essere qui presenti con noi oggi pomeriggio, per darci qualche parola, qualche pensiero. Grazie. Grazie a lei, dottor Tognatti, grazie soprattutto per l'invito a questo momento così importante, dove si parla di un tema così importante, che sono le minoranze linguistiche. Io voglio portare il saluto a tutte le persone qui presenti, quindi al dottor Palermo, alla dottoressa Meda Wiedinscher, scusi se lo dico non corretto, e alla signora Ilenia Ruggiu. Sono contenta che questo seminario venga svolto qui in Val di Fassa. La Val di Fassa ha questa minoranza, la minoranza ladina, che sicuramente in Trentino è la più numerosa, però quando parliamo appunto di minoranze, credo che sia importante ricordare le minoranze che ci sono sul territorio, quindi anche sia i Mocchini e i Cimbri. Diciamo che le tutele a livello normativo sono ampie, partendo appunto dalla tutela appunto dalle dichiarazioni internazionali del dopoguerra. Ricordiamo la dichiarazione universale dei diritti umani, approvata a Parigi, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la Convenzione Europea delle Lingue Regionali o Minoritari trova il suo fondamento nell'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Del 1950 questo articolo consacra il principio di non discriminazione, soprattutto in ragione della lingua e dell'appartenenza ad una minoranza nazionale. La costruzione stessa dell'unità dell'Europa è stata fondata sempre sul rispetto per la diversità culturale dei relativi Stati membri radicate nella grande ricchezza linguistica. Io credo che la provincia autonoma di Trento, come la nostra regione, su questa possa essere d'esempio per la convivenza dei popoli, proprio per la coesistenza di queste minoranze linguistiche che ci sono appunto nella nostra regione. La Costituzione italiana appunto dal 1948 all'articolo 6 parla della tutela delle minoranze linguistiche, solo però 50 anni dopo entra la tutela delle minoranze, è stata regolamentata dalla legge quadro 482 appunto del 1999. Credo che ci siano ancora dei passaggi fondamentali che l'Italia debba fare e mi riferisco alla ratifica della Carta Europea. Ricordiamoci che la Carta Europea appunto è stata scritta il 25 novembre del 1992 e ancora l'Italia non ha ratificato questa Carta. Io da senatrice, appena prodata appunto in Senato, ho fatto un disegno di legge che porti alla ratifica di questa Carta Europea. Un altro dei disegni legge di cui io mi sono impegnata e di questo ancora non ho dato neanche notizia alla stampa è stata sulla tutela delle minoranze a rischio scomparsa. Per quale motivo? Noi siamo andati a analizzare anche come Comun General quali sono le criticità che affrontano le minoranze sul nostro territorio. Allora la nostra minoranza diciamo è fortunata perché essendo anche una località turistica e quindi economicamente attrattiva per le persone che decidono di avere una qualità di vita superiore o avere una possibilità economica abbiamo una criticità che può essere della contaminazione della lingua minoritaria da parte delle lingue egemoni. Mentre una criticità che emerge a livello delle minoranze sia cimbre che mocne è quella dello spopolamento un fenomeno, lo spopolamento di montagna che è molto diffuso su tutti i territori montani ma che va a influire ulteriormente sulle minoranze linguistiche. Sappiamo che le minoranze linguistiche storiche sono insediate a mezza montagna o a metri più alti, quindi in montagna e quali sono le criticità nel momento in cui economicamente la località diventa svantaggiosa i servizi non vengono offerti alle popolazioni le famiglie tengono a trasferirsi in posti chiaramente che offrono più garanzie e sviluppo appunto alle famiglie. E allora per andare a contrastare questo fenomeno ho pensato di proporre un disegno di legio che ho depositato nello scorso mese che appunto prevede dei benefit a livello economici proprio per queste minoranze quindi si parla di riduzione sul acquisto delle case su bonus bebè, su bonus cultura per andare appunto a incentivare i giovani a rimanere sulle ristrutturazioni, benefit sulle ristrutturazioni delle case per andare anche a recuperare le case storiche che sono insediate all'interno di queste minoranze e quindi ecco appunto valorizzare le minoranze sia a livello locale facendolo nella mia veste di procuratore quindi cercando di promuovere quelle che sono le azioni volte a sensibilizzare anche le persone che vengono da fuori a parlare la nostra lingua a continuare a mantenerla viva per poi guardarsi in un ambiente molto più ampio che è quello appunto partendo dalla nostra provincia pensando poi alla nostra nazione per poi andare anche in Europa per far garantire quei diritti che in questo momento a noi come trentini ci vengono garantiti appunto dal Statuto dell'Autonomia Speciale ma che appunto avrebbero maggiore sicurezza se fosse ratificata anche questa carta europea io non aggiungerei altro anche perché credo che il vostro seminario vada a approfondire argomenti di quelle che sono già le minoranze storiche esistenti quindi queste che ho appena menzionato più appunto le nuove minoranze che si insediano sui vari territori per quanto riguarda la ratifica della carta europea io ho fatto inserire anche i ROM, Sinti e Camminati che non erano previsti appunto nella 482 per un semplice motivo credo che sia fondamentale per le persone che vivono nei nostri territori poter comprendere anche quella che è la nostra lingua nazionale e poter mantenere appunto l'identità quando noi parliamo di identità parliamo di tradizioni, di cultura di vivere i luoghi in cui si è nati portandone avanti questi principi fondamentali che poi sono quelli anche in Europa che noi cerchiamo di contrastare come la famosa globalizzazione che appunto se noi la guardiamo sotto tantissimi aspetti può essere diciamo un in più che noi abbiamo e possiamo offrire anche le persone che vengono a visitarci turisticamente quindi l'investimento sulla nostra cultura e tradizione può essere anche un modo per proporsi all'esterno e essere un qualcosa in più io non aggiungerei altro vi ringrazio appunto per questo seminario credo che oggi avrò ulteriori nozioni per poter aggiungere anche al mio diciamo ruolo che ricopro sia di procuradora che come senatrice ecco una cosa che mi piace portare quando parliamo di minoranze sono sentite a livello molto più ampio non c'è un'insensibilità come spesso viene creduto anche dalle persone quando io ho fatto questo disegno di legge appunto sulle minoranze a rischio scomparsa ho affrontato il discorso con persone con grichi o citani e appunto sostengono che il rischio di scomparsa è veramente elevato quindi penso che sensibilizzando anche le altre parti politiche si riesca a riuscire insomma a tutelare e preservare questo immenso valore di cui l'Italia ha come patrimonio grazie grazie mille procuradora per queste parole non le nascondo che non sapevo della presentazione di questo disegno di legge e come facoltà di giurisprudenza cominceremo a studiarlo, a capirlo, a valutarlo perché credo che questo faccia dell'Università di Trento quella che mi piace definire una Università territoriale che è una formula meno nobile di quella usata dai nostri colleghi dell'Università di Innsbruck di Landes Universität fra l'altro fra un paio di settimane l'Università di Innsbruck festeggia credo il 350esimo anno della sua fondazione ed è interessante che si ripresenti a Bolzano come Landes Universität come l'Università del Land Tirol a prescindere dall'esistenza dell'Università di Bolzano che non so bene come la prenderà a prescindere da come l'Università di Bolzano possa reagire a questa riaffermazione di Innsbruck come Landes Universität rimane il fatto che non c'è dubbio che noi Università di Trento siamo la Landes Universität e dico questo proprio perché da molti punti di vista come voi tutti sapete vi è interazione, vi è scambio, vi è presenza è così come un piccolissimo segnale proprio questa idea di parlare di minoranze in terra di minoranza ed è un impegno che il progetto LIA Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale ha preso due anni fa abbiamo organizzato un convegno a Luserna abbiamo iniziato proprio dalla più piccola delle comunità linguistiche trentine a rischio di sparizione l'anno scorso ci siamo visti in Val dei Mocchi e quest'anno era giusto che venissimo qui e devo dire che da come siamo stati bene accolti era giusto che venissimo ma ripeto è stato scelto proprio di cominciare dai più piccoli proprio per dare questi segnali parlare di minoranze in terra di minoranze è una manifestazione di rispetto di ricerca di un'interlocuzione di un coinvolgimento e come dicevo è un'espressione di una università territoriale e non posso non ricordare che noi abbiamo una vicerettore o vicerettrice con delega proprio alle minoranze la professoressa Patrizia Cordin che oggi non può essere con noi ma mi ha pregato di portare i suoi saluti e mi piace farlo proprio in seguito al suo intervento ecco io chiederei ora al signor Franco Picciayder se vuole intervenire no? è il presidente del consiglio del Comune General de Fassa però chiederei allora al dottor Fabio Chiocchetti direttore del museo dell'istituto culturale che come voi vedete appare come uno dei soggetti promotori di questo convegno credo che debba parlare al microfono forse anche in piedi? sì allora io porto innanzitutto il saluto del presidente Tone Polam che si scusa di non poter essere qui ma essendo medico è un convegno di pediatri e lo sarà ancora per qualche settimana ma ugualmente ha voluto incaricarmi di portare il suo saluto perché l'istituto in sé ritiene un onore potervi ospitare in questa sede per tutte le ragioni che sono state dette perché noi riteniamo che anche la riflessione di tipo giuridico scientifico su questa materia per quanto come dire per il momento riservata agli addetti ai lavori agli specialisti o ai politici debba avere debba essere riconosciuta come un valore culturale più ampio che io spero possa avere una ricaduta anche nella coscienza delle popolazioni minoritarie credo che in questo senso la stampa e i presenti possono farsi tramite delle problematiche che verranno qui illustrate perché forse è vero quanto ha scritto la Ustila Dins recentemente che la tentazione delle minoranze è un po' quella di parlarsi addosso cioè di avere una percezione molto individuale personalistica anche delle tematiche giuridiche mentre sappiamo benissimo che il discorso dei diritti o è condiviso fra tutti gli aventi diritto per l'appunto o rischia di diventare qualche cosa di vuoto di auto referenziale quindi è bene che anche le nostre popolazioni siano coscienti del fatto che esistono delle minoranze storiche ma che il fenomeno delle nuove minoranze si sta facciando in modo sulla scena del mondo in maniera molto presente molto importante e qui voglio dire probabilmente anche i relatori entreranno in questa dimensione anche di analisi storica ma non possiamo dimenticare che su 12 minoranze cosiddette storiche quelle sancite dalla apposita legge quadro quanto meno una metà derivano da fenomeni migratori che siano di ordine economico come per esempio i mocheni o i cimbri o anche come dire per effetti di conflitti bellici come gli albresce che sono dovuti fuggire da casa loro per trovare pace e sicurezza al di là del mare quindi per quanto ovviamente i secoli creino condizioni completamente diverse di radicamento o meno su un territorio nuovo che diventa la nuova patria il nuovo territorio non possiamo dimenticare appunto e quindi sviluppare nelle nostre comunità quel senso di solidarietà che in fondo ha contraddistinto soprattutto chi vive poi in condizioni molto difficili come l'alta montagna dove certamente era importante difendere i confini garantire le risorse alle future generazioni ma questo non impediva di esercitare la solidarietà sia all'interno verso le vedove gli orfani deboli ma anche verso i viaggiatori verso i profughi verso chi veniva da fuori sempre con le dovute cautele e anche in questo senso queste povere piccole comunità montane hanno saputo istituire ospizi strutture fondi per garantire una sopravvivenza anche a chi era meno fortunato questo credo che sia un messaggio che va condiviso fra tutte le minoranze ma soprattutto poi anche con le maggioranze e quindi vi ringrazio tutti ringrazio i relatori e le relatrici per quanto si offriranno quanto riflessione e stimolo per una migliore comprensione della nostra realtà e del nostro tempo grazie grazie a lei direttore queste parole che vengono da chi si è occupato per decenni di queste cose se ne è fatto portavoce in tutto il territorio sono particolarmente apprezzate mi lascio solamente dire che una giustificazione dell'autoreferenzialità è rappresentata dalla bellezza della natura così ben indicata da queste fotografie spero che quando avremo una pausa avremo tutti in modo di soffermarci perché sono assolutamente fantastiche e questo ripeto giustifica una qualche concentrazione sulle proprie vicende e vorrei dire ora qualche parola proprio di presentazione del nostro incontro e inizio cimentandomi in una operazione non facilissima citando un antico proverbio ladino che appare sulla relazione annuale del 2017 dell'autorità garante delle minoranze si riferisce al 2016 se la luna lui essa metto l'essa e che che è volessa ma già che la luna non l'usce metto le laverde e ence i capuch forse vale la pena una una voce perfida qui vicino mi ha chiesto ho sentito chiedere se la pronuncia era corretta la voce perfida non sa che mi sono fatto lezione per cui credo che la procuradora possa confermare che la pronuncia era impeccabile impeccabilissima allora se non io ve lo capisco e io per te ho preparato la traduzione se la luna illuminasse mi prenderei soltanto ciò che mi occorre ma già che la luna non illumina mi prendo le verze e anche i cavoli e mi è sembrato appropriato questo problema non solamente appunto perché siamo in terra ladina ma perché all'inizio di un convegno senza dubbio impegnativo e ringrazio i colleghi che hanno accettato questo invito e lasciatemi dire che non pensavano di poter mettere insieme un gruppo di specialisti della materia di così alto profilo come quelli che sono presenti oggi diciamo per un impegno di tale natura mi sembra che si possa diciamo decodificare e diciamo uscire dall'orto per dire che una scelta razionale richiede illuminazione che sia illuminazione della ragione o che sia illuminazione divina a seconda delle propensioni e la seconda parte del proverbio senza illuminazione si procede seguendo l'avidità dell'istinto cioè mi prendo tutto i cavoli e le verse perché una perché il tema è così impegnativo ed è impegnativo perché abbiamo a che fare con fenomeni che hanno caratterizzato delle epoche storiche se pensiamo che soprattutto a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso quindi che si è venuto consolidando in tutta Europa il paradigma costituzionale del pluralismo culturale e questo è un consolidamento meglio l'avvio di un consolidamento che occorre ricondurre ad un altro evento storico che è quello che convenzionalmente si pone al trattato di Westfalia quindi 1648 il consolidamento della formazione degli stati nazionali allora gli stati nazionali si sono consolidati all'insegna dell'uniformità all'insegna della unicità dell'identità della lingua e così via non dimentichiamoci che il trattato di Westfalia conferma quel principio che si era già formato un secolo prima secondo il quale cuius regio eius et religio cioè se tu sei cittadino di uno stato devi seguire la fede del principe di quello stato quindi questo era stato già un vantaggio perché attraverso questo principio che oggi ci sembra ontologicamente contrario ai diritti alla tutela dei diritti dell'uomo ha rappresentato la fine delle guerre di religione quindi anche questo ce lo riportiamo a tempi antecedenti se arriviamo alla riforma a Lutero e così via vediamo che è un'altra intera epoca storica che viene contraddistinta ecco oggi possiamo dire e i geni ne sono una testimonianza insieme ai Mocchi insieme ai Cimbri ma insieme ai tedeschi dell'Alto Agile di Svitero e insieme agli italiani della Slovenia agli italiani della Croazia gli italiani della Romania voi pensate che addirittura gli italiani della Romania che non è una minoranza con la quale abbiamo grande dimestichezza hanno addirittura un seggio riservato in Parlamento e quindi sono fenomeni assolutamente corposi quindi si è superata il dogma vorrei dire dell'omogenea uniformità del popolo quale elemento costitutivo dello Stato Nazionale e nel riconoscimento di una sfera articolata di diritti in capo alle minoranze storiche e pur accedendo per evidenza di realtà storica ad osservazioni fatte dal direttore Chiocchetti è anche vero che le comunità storiche sono quelle identificate proprio in ragione del loro insediamento nel proprio territorio originario le quali per le vicende tipiche della storia europea si sono ritrovate all'interno di confini statuali mutevoli in altre parole le minoranze continuavano a stare sul loro territorio erano gli stati che cambiavano e ancora una volta questa terra è testimonianza di questo fenomeno il territorio è rimasto dove era gli abitanti sono rimasti dove erano è il contorno circostante che è cambiato l'azzeramento della diversità e l'identificazione della diversità con l'alterità e con la figura del nemico questa era la situazione delle minoranze prima della seconda guerra mondiale nella mia stessa famiglia per esempio si è cambiato due volte il cognome proprio perché bisognava adeguarsi al diverso contesto aggiungo che in epoca zarista l'accusa di cosmopolitismo rivolta agli ebrei confermava la loro inaffidabilità e propensione al tradimento della nozione che il malvolentieri permetteva loro di insediarsi nel proprio territorio quindi vi è stato un superamento di pregiudizi di imposizioni culturali di inquadramenti in gabbie di uniformità religiosa linguistica nazionale e quindi della condizione delle minoranze stesse che come il grande e comune maestro Pizzorusso insegnava potevano essere definite loro malgrado le minoranze loro malgrado minoranze che avrebbero voluto non essere delle minoranze che però proprio nel corso di questo processo storico hanno acquisito l'orgoglio della propria identità minoritaria mentre una volta membri di minoranze tentavano di nascondere la loro identità ad un certo punto invece ne sono stati orgogliosi e l'hanno addirittura esibita quindi siamo passati dalla repressione delle minoranze nazionali al riconoscimento dell'esistenza di minoranze alla tutela e infine alla promozione delle minoranze autoctone insediate sul proprio territorio e spesso in condizioni di forza identificazione con il proprio territorio storico e da questo punto di vista la stessa adozione del nome Comun General de Fassa lo stesso fatto che solo per questa comunità sovracomunale vi sia una legge provinciale che stabilizza e garantisce questa condizione di autogoverno è diciamo rappresentativa di questa dinamica abbiamo norme costituzionali in molti ordinamenti europei non in Francia non in Grecia ma a questo punto dopo l'ondata di paesi dell'Europa centrale orientale possiamo dire e qui forse se ne parlerà che oggi la tutela delle minoranze è diventata parte delle tradizioni costituzionali comuni dagli stati membri dell'Unione europea perché sono probabilmente solo Francia e Grecia che eccepiscono rispetto a questa norma generale c'è una convenzione quadro anzi due convenzioni quadro come giustamente è stato ricordato la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali mette l'accento anche sullo sviluppo sociale ed economico quindi non solamente identità linguistica ma anche lo sviluppo economico apro una piccolissima parentesi e mi rivolgo proprio alla procuradora non alla senatrice in questo caso no perché credo che si debba ricordare che lo statuto della camera di commercio di Trento ha una disposizione che tra le finalità della camera di commercio prevede anche lo sviluppo e la promozione dell'economia dei territori e delle minoranze e questo è negli ultimi 15 anni diciamo non credo che la camera di commercio abbia fatto nulla per dare attuazione a questa disposizione statutaria e se qualcuno con un po' di autorità lo facesse forse non sarebbe male ma chiuso la parentesi mi ha indicato una strada no l'ho fatto in pubblico diciamo nella massima trasparenza addirittura in internet ecco questo è un fenomeno io vorrei dire una pagina felice della storia europea accanto a tali minoranze storiche stanziali tuttavia si conferma in Europa in Italia un fenomeno che in realtà è altrettanto consolidato storicamente delle comunità rome sintile ha ricordato anche i camminanti che sono che non sono destinatari della medesima disciplina formale né europea né nazionale e addirittura possono anche non risultare affatto tutelate non solo ma nel corso degli ultimi vent'anni l'esperienza del pluralismo culturale in Europa si è andata arricchendo come conseguenza strutturale delle note dinamiche di migrazione di provenienza soprattutto da contesti extraeuropei e si tratta di insediamenti stabili o almeno con tutti i caratteri della stabilità allora teniamo presente che a questo punto noi non possiamo come giuristi come studiosi non possiamo ignorare il fatto che esiste un fenomeno comunità storica che ha il suo assetto esiste un'altra comunità minoritaria storica il Roma e Sinti e i Caminanti che non hanno lo stesso assetto e poi esiste un terzo fenomeno che è quello delle comunità degli immigrati e mi riferisco alle comunità insediate ai cinesi ai sicchi in determinate zone dell'Emilia della Lombardia e così via e quindi diciamo minoranze corpose che hanno diciamo una serie di fattori quale per esempio una tendenza ad insediamenti di tipo aggregativo e comunitario e anche quando gli insediamenti sono individuali e diffusi non può escludersi che esista comunque una vocazione ovvero un'aspirazione di tipo comunitario e quindi abbiamo una pluralità di forme di insediamento talvolta del tutto individuali ma talvolta anche in forma aggregata chiunque abbia visitato Little Italy o la Chinatown in giro per il mondo a Brooklyn e quant'altro sa qual è il fenomeno al quale mi riferisco in altre parole accanto alle minoranze storiche storiche il fenomeno sociale connesso al paradigma costituzionale del pluralismo culturale non può oggi non essere associato anche ad altri insediamenti di tipo aggregativo e comunitario ed ecco allora il compito del giurista come qualificare giuridicamente questo fenomeno tenendo conto del contesto europeo ma a partire dall'ordinamento costituzionale italiano allora nel linguaggio corrente anche la senatrice ha parlato di nuove minoranze e io mi domando se sia corretto parlare di nuove minoranze l'ipotesi della quale muove questo convegno è che forse ripeto forse sia più appropriato parlare di altre minoranze proprio per la eterogeneità dei profili distintivi che non sembra legittimare la prospettiva di un'applicazione analogica della disciplina maturata progressivamente nella storia con riguardo alle minoranze storiche certo mi rendo conto che l'aggettivo altre minoranze può far pensare a contesti di natura denigratoria e addirittura di marginalizzazione forse non è fuori luogo ricordare la denominazione di Welch Tirol che una volta veniva attribuita al Trentino come dire l'altro Tirolo ma altro diverso da noi non è sbagliato e qui immagino che il professor Palermo prima o poi mi punzeccherebbe per questo non si può non pensare alla costituzione della Bosnia e Herzegovina in cui si fa riferimento ai popoli costituenti e cioè i croati i serbi i bosniaci e gli altri su cui c'è stata fra l'altro una ben nota sentenza della corte costituzionale della Bosnia e Herzegovina rispetto alla quale non a caso vi sono state due che diciamo che non ha colto il ricorso da parte di un ebreo che non poteva aspirare per via della struttura della legge elettorale ad arrivare a certe cariche e le due opinioni quindi la sentenza ha respinto il ricorso e vi sono delle opinioni dissenzienti non a caso della Constance Grewe giudice e di quell'altro quello di Cambridge in questo momento non mi ricordo il nome cioè i due giudici della corte costituzionale della Bosnia e Herzegovina nominati dal presidente della corte europea dei diritti dell'uomo proprio per diciamo favorire l'interazione tra la cultura giuridica dell'europeo occidentale e la cultura giuridica dell'Europa balcanica che erano così distanti e non c'è dubbio ripeto che sono consapevole del fatto che parlare di altre minoranze possa sembrare di per sé riduttivo però forse è tanto riduttivo parlare di altre minoranze quanto espansivo parlare di nuove minoranze come se si potesse pensare ad un'applicazione analogica delle norme sviluppatesi nel tempo a favore delle minoranze storiche anche a favore di questi gruppi diciamo di queste aggregazioni ecco questo è un po' il tema del convegno certo dobbiamo tenere conto del fatto che per esempio manca una definizione di che cosa sia minoranza anche a livello europeo la commissione di venezia però ha fatto delle riflessioni molto interessanti in questa direzione certamente si può dire che anche queste minoranze le altre minoranze sono formazioni sociali di cui è l'articolo 2 della costituzione e qui abbiamo Emanuele Rossi che domani tira le conclusioni che nella sua ancora magistrale opera sulle formazioni sociali ha classificato le minoranze come formazioni sociali benché manchi quell'elemento tipico delle formazioni sociali che è la volontà se ricordo bene e ancora l'articolo 6 della costituzione cioè la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche certamente si applica le minoranze storiche certamente come ha riconosciuto la corte costituzionale non esaurisce il campo della sua applicazione il problema è fino a quanto qual è il limite quanto può essere esteso al di là dell'esistente il campo di applicazione dell'articolo 6 ecco quindi noi avremmo oggi minoranze storiche nuove minoranze con un punto di domanda altre minoranze arrivo alla conclusione e chiedo sono generi diversi oppure esiste un solo genere minoranze to cure o minoranze nazionali o minoranze linguistiche rispetto alle quali le minoranze storiche le nuove e o le altre sarebbero altrettante species come si collocano questi diversi fenomeni della realtà allora questo non è un convegno attesi qui non siamo venuti a dimostrare che esistono le altre minoranze e che non esistono le nuove minoranze però ho preferito partire diciamo in maniera se volete un po' provocatoria proprio per porre in evidenza il problema della qualificazione giuridica dei fenomeni seguendo la qualificazione giuridica dei fenomeni seguono normalmente questi criteri tradizionali che fanno parte un po' della scienza giuridica cioè i rapporti fra generi e species e quindi questo evidentemente non esclude che questo incontro sia finalizzato all'esame anche di una razio condivisa fra queste tre figure che possa partire ripeto dall'applicazione dell'articolo 2 formazioni sociali e articolo 6 minoranze linguistiche e per capire se vi possa essere una selezione di norme apposite idonea a costituire una disciplina adeguata per destinatari che siano meritevoli di tutela aggiungo solo un'ultima osservazione che non dobbiamo in questo contesto richiamare tutte le norme che disciplinano gli stranieri in quanto tali perché gli stranieri in quanto tali sono tutelati dall'ordinamento costituzionale italiano in quanto individui faccio un piccolo esempio alla sentenza 10 del 93 quando la corte costituzionale prendendo spunto dalla norma del codice di procedura penale che garantisce alle minoranze in buona sostanza quella di lingua tedesca la conoscenza dell'imputazione nel corso di un processo nella lingua nota una norma che esiste nel codice di procedura penale italiana dice anche diciamo un'altra disposizione va letta in modo da estendere anche agli stranieri una norma di questo tipo ma ripeto sono gli individui non sono le aggregazioni di individui su questo noi scontiamo il fatto che la nostra tradizione giuridica conosce solamente diritti individuali oppure diritti individuali ad esercizio collettivo come nel caso delle minoranze ma non prevede una personalizzazione giuridica delle minoranze e invece a noi interessa proprio questo perché questo è quello che caratterizza le minoranze storiche quindi non si tratta di tutelare i singoli individui ma si tratta di tutelare le aggregazioni e su questo diciamo se il tema interessa sempre che abbia interessato i colleghi passeremo due bellissime mezzogiornate in terra di minoranze in particolare qui in terra laddina chiedo scusa per la tosse Francesco ti prego di assumere la presidenza bene molte grazie ci sono già stati parecchi spunti in verità e sicuramente si annuncia due mezze giornate molto ricche e interessanti prima di passare la parola alle nostre due forse tre dipenderà relatrici di questo pomeriggio una brevissima riflessione iniziale data dagli spunti che sono già emersi e poi mi riserverò di tornare quando faremo la discussione altre minoranze altre minoranze da un punto di vista giuridico è una definizione piuttosto semplice e calzante altre rispetto a cosa altre rispetto a quelle riconosciute come tali dall'ordinamento giuridico non esaurisce il tema sociologico il tema sociale il tema politico ma dal punto di vista giuridico è molto chiaro chi è dentro chi è fuori le altre sono quelle che sono fuori c'è però il contesto del pluralismo complessivo che caratterizza le società occidentali moderne che preme per un riconoscimento di un numero di gruppi maggiore di quelli che sono riconosciuti questo è il tema che anche giuridicamente si pone rispetto all'ordinamento se esistono dei criteri che non siano meramente di arbitrio del legislatore nell'allargare o restringere il margine di riconoscimento la cosa interessante è che nei circoli ci si conosce un po' tutti si frequentano sempre gli stessi convegni da una parte e dall'altra in terre più o meno belle siamo molto fortunati oggi ad essere qui si riconosce sempre il fatto che l'assenza di una definizione normativa di minoranza sia sempre stato un fattore positivo e lo è stato perché ha consentito soprattutto agli organismi internazionali sul piano del diritto interno le cose sono un po' più articolate di evitare di fossilizzarsi rispetto ad una definizione calata in un contesto storico e di consentire a questi strumenti di essere degli strumenti che vivono nel tempo pensiamo soprattutto alla convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali che evidentemente si era posta il problema e è arrivata alla conclusione di non prevedere una definizione normativa questo ha consentito di interpretare in modo più flessibile le disposizioni che altrimenti erano scritte avendo a riferimento un contesto molto preciso che storicamente è superato ora però la questione si ripropone e si ripropone in maniera secondo me abbastanza pressante adesso cioè non è tanto una questione di definizione ma è molto una questione di ambito di applicazione a chi si applicano le norme previste per la tutela delle minoranze nazionali barra linguistiche barra storiche eccetera eccetera a seconda delle diverse declinazioni e questo non è un tema di poco momento forse scontiamo su questo delle lacune culturali mi è venuto in mente sentendo il dottor Chiocchetti prima che ha fatto giustamente riferimento alla questione diciamo a chi si rivolge per chi sono per chi è la tutela delle minoranze è veramente qualche cosa che va dalle minoranze per le minoranze e si esaurisce all'interno del discorso minorità comunitario oppure oppure no e mi è venuta in mente una cosa che ho visto proprio ieri sono andato a recuperarla che mi ha sconcertato a dire la verità le Nazioni Unite niente po' di meno che le Nazioni Unite è l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani non proprio l'ultimo delle istituzioni ha lanciato un programma di formazione che si rivolge alle minoranze nazionali e uno dice che bella cosa minoranze popoli indigeni e nel bando si dice ecco, questo è l'approccio secondo me deleterio rispetto alla comprensione del fenomeno delle minoranze che è un fenomeno sociale che riguarda la società nel suo complesso e non soltanto i gruppi beneficiari delle norme questo è uno dei temi si parlava della ratifica è una cosa molto bella che ci si impegni nuovamente per la tutela delle minoranze in questo caso le minoranze linguistiche storiche e le lingue minoritarie o regionali credo che sarà un'impresa estremamente difficile perché questo è uno degli ostacoli che si incontrano quello di non suscitare alcun interesse nella popolazione di maggioranza e quindi c'è di nuovo questo concetto di alterità che viene fuori ma il tema è realmente un tema di tutti ecco direi che siccome dobbiamo interpretare tante cose io interpreto il mio ruolo di presidente del panel come quello di un commentatore successivo volevo soltanto prendere alcuni spunti che mi sono venuti dalle riflessioni dei tre relatori precedenti e passare la parola alle nostre relatrici di oggi andiamo in ordine direi secondo il programma e la parola va a Roberta Medda Vindis di Eurac Research grazie Bene allora io ringrazio innanzitutto il professor Toniatti e l'istituto della cultura ladina per aver organizzato questo evento e per avermi invitata e per avere non solo l'occasione per parlare oggi con voi ma anche per godere di questa bellissima insomma montagna che ci circonda io come avrete capito dal mio cognome sono Sarda trapiantata in Alto Adige quindi minoranza che vive in una terra di minoranza non potevo gioco forza non potevo non occuparmi di minoranze e io in particolare mi sono occupata dopo i miei studi sui diritti fondamentali diritti umani del tema delle nuove minoranze quindi mi ha fatto molto piacere sentire il dottor Chiocchetti che in qualche modo ha dato un segnale di apertura anche da parte di una minoranza anche piccola minoranza verso questa tematica appunto delle altre nuove minoranze senza temere poi perché questo è un po' se vogliamo il rischio la paura di molte minoranze che in qualche modo vengano la loro protezione venga diluita e quindi assorbita poi dal flussi migratori che arrivano sempre più numerosi ecco la mia presentazione vuole essere appunto come dice il titolo uno spunto di riflessione prendendo diciamo ad esempio il territorio italiano ovviamente e l'ambito europeo e l'idea è quello di in qualche modo andare ad analizzare diciamo quali sono gli elementi per una possibile superamento di questa presunta dicotomia che esiste fra le cosiddette vecchie minoranze e le altre nuove minoranze evidenziando appunto analogie e utili sinergie di approccio più che di diciamo applicazione delle misure diciamo delle tutele previste per la minoranza per le minoranze storico tradizionali una analogia di approccio anche nello studio nel trattamento delle minoranze delle cosiddette appunto nuove minoranze originate dall'immigrazione per contrastare anche quella sorta di autoreferenzialità a cui appunto il dottor Chiocchetti si riferiva e quindi il tema principale è quello ovviamente dei processi di inclusione che sono molto problematici come sappiamo nell'ambito della tutela del trattamento dell'immigrazione e quindi l'idea è cercare di capire se dalla esperienza che l'Europa e l'Italia ha conosciuto e ha fatto in tutti questi anni con le vecchie minoranze se si possono trarre degli spunti per migliorare i processi di inclusione per le nuove minoranze e quindi ovviamente si parlerà anche della convenzione quadro parlerò della convenzione quadro sulla protezione delle minoranze e la dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione delle minoranze le cosiddette minoranze storiche ovviamente per vedere quali sono gli elementi gli spunti di una possibile estensione quindi la struttura sarà inizialmente qualche spunto di riflessione sulla diciamo i concetti la terminologia vedere quali sono gli elementi per una comune professor Tognanti parlava di razio eventuale razio comune ai fini di questa protezione comune e quali sono anche le comuni rivendicazioni per andare poi ad introdurre un dibattito su un eventuale sistema comune di protezione comune ma differenziato per poi arrivare a delle considerazioni conclusive anche in prospettiva futura quindi innanzitutto aprirei con in premessa diciamo aprirei con il tema del perché si usa questa terminologia cioè nuove e altre minoranze anziché il termine migranti molti me lo chiedono in effetti perché innanzitutto il termine nuove minoranze o altre quindi l'uso del termine minoranza in sé è come sappiamo per noi tutti che ci occupiamo di minoranze non privo di criticità anche per le cosiddette vecchie minoranze molti si pongono questo problema e soprattutto chi non si occupa di minoranze spesso ci viene chiesto ma perché continuate a usare questo termine minoranza non implica una sorta di alterità di subalternità di cittadinanza di secondo livello ecco quindi comunque è problematico anche per le vecchie minoranze diciamo così ovviamente estendere questa terminologia che è già problematica anche per cittadini diciamo stranieri ci consente però di utilizzare gli strumenti giuridici come la convenzione quadro o la dichiarazione che citavo delle Nazioni Unite mentre invece nell'ambito diciamo dell'immigrazione quindi per i migranti sappiamo che c'è ad esempio una convenzione ONU sui lavoratori lavoratori migranti quindi si riferisce in particolare ai lavoratori stranieri che vivono che lavorano nei paesi nei quali non sono cittadini e i riferimenti che troviamo in questa convenzione ad esempio all'apprendimento della lingua d'origine si rivolgono sempre hanno come razio quella di un rimpatrio un po' come l'italiano per i nostri italiani immigrati in Germania l'idea era che prima o poi rientrassero insomma mentre abbiamo poi delle convenzioni anche del Consiglio d'Europa che si riferiscono in particolare ai cittadini dei paesi membri del Consiglio d'Europa che vivono in altri paesi membri e all'interno dell'Unione Europea troviamo invece diverse direttive sui cosiddetti cittadini dei paesi terzi third country nationals il focus ovviamente cambia perché l'uso e l'impiego di questi strumenti per le minoranze diciamo ha un focus principale sull'identità e le diversità mentre invece le altre convenzioni come facevo facendo prima hanno un focus sui diritti sociali ed economici riferimenti a quelli facevo menzione prima diciamo hanno come ultima razza sempre quello del rimpatrio che poi non avviene come sappiamo per quanto riguarda anche la diciamo la dimensione dei diritti l'uso del termine minoranza ci permette anche di usare non solo cioè di in qualche modo affrontare il tema non solo da un punto di vista dei diritti individuali ma anche quello appunto delle formazioni sociali delle aggregazioni quindi dei gruppi mentre invece tendenzialmente la disciplina sui migranti si concentrano sui diritti individuali l'elemento diciamo dell'aggregazione degli diritti collettivi non esiste e infine la terminologia il termine minoranza è tendenzialmente più un termine più inclusivo e riflette in modo più appropriato la situazione anche di molti paesi di immigrazione sempre più diversificati mentre invece il termine migrante si limita alla prima generazione diciamo di immigrati le cosiddette seconde e terze generazioni tecnicamente non sono migranti in senso stretto quindi generalmente si usano altri termini cioè cittadini stranieri con background cittadini italiani con background migratorio o passato migratorio e cose di questo genere per quanto riguarda la dicotomia di cui abbiamo parlato la presunta almeno dicotomia di cui oggetto il convegno questa dicotomia ovviamente come è stato già ripetuto più volte impatta anche sull'applicazione degli strumenti giuridici internazionali e nazionali come la convenzione quadro e la legge e la 482 che sono tendenzialmente concepite e diciamo adottate per la tutela delle cosiddette vecchie minoranze le minoranze storico tradizionali autoctone le minoranze di antico insediamento eccetera Francesco prima faceva riferimento al programma delle Nazioni Unite che c'è da tanti anni effettivamente e ho pensato alla definizione di uno dei primi i commissioner dell'OSCE sulle minoranze che diceva io riguardo al tema che non esiste nel diritto internazionale una definizione di minoranze lui diceva una minoranza quando la vedo la so riconoscere ecco probabilmente le Nazioni Unite faranno una selezione così quando li vedono li sanno riconoscere non so basta togli l'anello dal naso ecco comunque diciamo generalmente diciamo all'interno della prima della prima categoria rientrano appunto i gruppi e gli individui che hanno dei tratti distintivi legati alla lingua alla cultura alla religione diversi rispetto al resto della popolazione la 482 sappiamo solo quelli linguistici e che sono spesso il risultato del ridisegnamento dei confini o il mancato riconoscimento della sovranità come appunto faceva riferimento il professor Toniatti e quindi sono adesso parte di uno o anche più stati pensiamo ai kurdi e i ladini ovviamente certo diciamo che i kurdi sono un po' più problematici a livello di distribuzione il fatto che siano distribuiti su tanti stati mentre sappiamo che la differenza fra questi gruppi e i popoli indigini ad esempio è anche questa abbastanza problematica quindi io non entrerò adesso in questo ambito mentre invece per altri o nuovi gruppi minoritari originati dalla migrazione si intendono appunto i migranti rifugiati richiedenti asilo i propri familiari seconda e terza generazioni che in realtà non sono migranti e quindi sono stati fatti diversi tentativi per differenziare questi gruppi quindi alcuni dicono che per esempio il primo gruppo sono tali sono diventate minoranze per una diciamo una motivazione una decisione involontaria perché appunto sono stati diciamo sono diventati tali a seguito del ridisegnamento dei confini eccetera di stati in azione eccetera mentre invece le nuove minoranze sarebbero tali per una decisione volontaria cioè di trasferirsi volontariamente in un altro stato e qui ovviamente il tema è quanto sia volontaria questa decisione perché sappiamo benissimo che oltre ai richiedenti asilo rifugiati che ovviamente sono tali per scappare da persecuzioni eccetera anche i cosiddetti migranti economici ci si chiede quanto le loro decisioni siano volontarie quindi anche qui il dipattito è aperto quindi poi un altro criterio è quello del legame di durata immemorabile e anche qui ci si chiede quanto come si definisce questa immemorabilità quindi quante generazioni devono ci devono essere prima di diventare una vecchia minoranza quanti anni e lo stesso dottor Chiocchetti la citerò spesso oggi però effettivamente lei stesso menzionava il fatto che molte cosiddette vecchie minoranze sono tali a seguito di migrazioni quindi non è che siano proprio diciamo i vecchissimi insediamenti prima dell'esistenza dello Stato-Nazione insomma che lì sarebbe da discutere e quindi molti Stati poi introducono il tema cioè il requisito formale della cittadinanza che anche questo non è del tutto decisivo perché sappiamo benissimo che molti stranieri prima o poi la cittadinanza la acquisiscono e quindi anche questo non è del tutto diciamo decisivo come requisito quindi diciamo il professor Tognetti diceva qui non porteremo delle tesi no io in realtà la porto e poi si apre il dibattito è ovvio è il convegno che non hanno no no è vero infatti non l'ho notato e la mia tesi diciamo è che si possa in qualche modo superare questa appunto dicotomia fra nuove e vecchie minoranze e parlare di minoranze o come dirò poi in seguito gruppi distinti differenziati quindi con un approccio diciamo che ha la base un concetto omnicomprensivo basato sulla diversità culturale religiosa e linguistica non solo per l'estensione di un'eventuale appunto di un'eventuale estensione di strumenti giuridici ma anche per trovare come dicevo all'inizio queste analogie per risolvere molti dei problemi che sono legati ad esempio ai processi di inclusione degli stranieri dei cittadini stranieri per cui in questo concetto omnicomprensivo ci sarebbero ovviamente le minoranze storico-tradizionali ma anche le nuove minoranze che come vedete sarebbero costituite da immigranti di prima generazione gli individui di seconda e terza generazione rifugiati richiedenti asilo eccetera ovviamente Roma e Sinti ad esempio si porrebbero in posizione ci sarebbero molte sovrapposizioni perché loro sono uno dei primi gruppi che ovviamente sono allo stesso tempo spesso minoranze storico-tradizionali e se vivono in altri paesi anche nuove minoranze per quanto riguarda l'estensione appunto degli strumenti giuridici che come dicevo sono stati generalmente concepiti e poi applicati dalla maggior parte degli stati per le minoranze storico-tradizionali ci sono posizioni diversificate perché questo tema è molto dibattuto soprattutto diciamo all'interno del comitato consultivo della convenzione quadro sulla protezione delle minoranze del Consiglio d'Europa in particolar modo con il suo direttore l'allora presidente di questo comitato consultivo il professor Rainer Hoffman che stranamente è tedesco e poi vi farò capire perché dico stranamente e lui ha spinto tantissimo per questa estensione quindi ci sono le posizioni sono molto diversificate perché come sappiamo essendoci una definizione legalmente giuridicamente riconosciuta di minoranza ogni Stato più o meno fa quel che gli pare mettiamola molto poco accademicamente diciamo con certi paletti ovviamente ma all'incirca le posizioni sono effettivamente molto diversificate quindi ci sono all'interno fra gli Stati degli Stati che pongono una fortissima posizione e fra questi c'è la Germania nonostante il proprio rappresentante se vogliamo all'interno del Comitato Consultivo professor Hoffman sia invece viceversa per la sua estensione e andando a scorrere un pochino l'ultimo rapporto che la Germania ha presentato a gennaio di quest'anno appunto al Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa vediamo appunto che la Germania ribadisce la sua forte opposizione per qualsiasi tipo di estensione e riconosce appunto quattro gruppi fra i quali anche i Roma e i Sinti tedeschi con cittadinanza tedesca e esclude espressamente anche per esempio i cittadini di origine polacca per i quali c'era stata invece che hanno la cittadinanza tedesca ma per il governo tedesco diciamo non sono traditionally resident perché sono presenti in Germania solo dal tardo diciannovesimo secolo e quindi lì si entra nelle disquisizioni fra appunto di questa terminologia di antico insediamento quanto antico immemorabile ma quanto immemorabile eccetera e poi è interessante leggere questo rapporto circa 300 pagine ve lo anticipo e comunque notti di insonnia ecco che si vogliono in qualche modo risolvere perché è molto chiaro che l'estensore insomma di questo rapporto ha voluto in tutti i modi evitare l'uso del termine migranti stranieri e islamofobia e questa tutta questa tematica viene molto fuscata molto diluita nonostante alcuni dipartimenti a cui il rapporto fa riferimento hanno come titolazione dipartimento di integrazione e degli stranieri dell'immigrazione quindi purtroppo lo devono ogni tanto utilizzare e per esempio quando la Germania fa riferimento al caso Sarazen che forse qualcuno di voi ricorda un paio di anni fa che è un caso di islamofobia e questo caso non viene riportato facendo riferimento ai cittadini di fede islamica o al tema dell'islamofobia quindi facendo queste acrobazie semantiche proprio per evitare quest'uso poi ci sono come vedete appunto stati che hanno un approccio pragmatico e fra questi il paese più pragmatico che conosciamo la Gran Bretagna eccetto quando si tratta di Brexit che non è per niente pragmatico e appunto loro utilizzano questo termine di national cioè includono nel rapporto della convenzione quadro le definiscono national ethnic minorities quindi per loro sono minoranze nazionali ed etniche definite dal color nationality ethnic national origin quindi una definizione molto ampia quindi loro parlano di black africans di black caribbean muslims asian oltre ai gipsi and travelers quindi un approccio molto flessibile molto aperto e poi c'è una posizione che io ho definito possibilista che è quella dell'Italia nonostante l'Italia abbia ormai negli ultimi rapporti con il Consiglio d'Europa sottolineato che per appunto l'Italia la convenzione quadro si applica solo alle minoranze linguistiche incluse nella legge 482 però che hanno quindi un insegnamento un antico insediamento è in un territorio delimitato quindi insomma parecchi paletti però l'ho definita possibilista perché quando fa riferimento quando appunto questo rapporto fa riferimento ai rome essinti e camminanti il rapporto la definisce nuove minoranze e infatti anche all'interno del ministero dell'interno c'è un'area l'area diciamo che si occupa di minoranze storiche che da qualche anno a questa parte contiene la dicitura minoranze storiche e nuove minoranze per nuove minoranze ovviamente lo Stato italiano considera i rom sinti e camminanti che però possono essere anche stranieri possono essere quindi per loro si fa questa eccezione possono essere stranieri ovviamente appolidi perché sapete che fra rome e sinti c'è questo tema molto pressante possono essere rifugiati quindi per i rome e sinti considerate nuove minoranze dallo Stato italiano c'è questa estensione anche agli stranieri ovviamente rome e sinti però non stranieri tu cur mentre gli organi internazionali tendenzialmente sono quindi per organi internazionali intendo il comitato consultivo come dicevamo prima della convenzione quadro il comitato ONU dei diritti umani la commissione di Venezia tendenzialmente c'è una diciamo una tendenza appunto a favore dell'estensione degli strumenti giuridici per le minoranze anche a coprire le nuove minoranze quindi diciamo che la decisione di estendere o meno questi strumenti di tutela è fondamentalmente una scelta politica quindi se andiamo ad analizzare le motivazioni la razio appunto alla base della protezione delle minoranze troviamo diverse analogie fra vecchie e nuove minoranze o altre minoranze e se andiamo ad osservare quella che diciamo le motivazioni le giustificazioni che sono state analizzate presentate da sia Ackermark vediamo che il primo è quello di garantire cioè perché si proteggono le minoranze qual è la motivazione per cui c'è uno strumento giuridico che deve essere applicato alle minoranze ovviamente lei faceva riferimento sia Ackermark alle vecchie minoranze ma vediamo le analogie anche con le nuove assicurare e mantenere la stabilità e quindi questo fa riferimento in particolare non solo ma anche ai rapporti con i cosiddetti king state per le vecchie minoranze e qui vediamo delle analogie anche con i paesi d'origine degli stranieri è chiaro che è utile anche allo Stato al paese di residenza tenere buoni rapporti con i paesi d'origine degli stranieri così come per uno Stato è utile tenere rapporti con il king state cioè il paese di riferimento delle minoranze il secondo elemento è quello di garantire diritti e libertà fondamentali in particolare la dignità umana e l'uguaglianza formale e sostanziale e qui ovvio l'analogia è ovvia la protezione della diversità culturale dell'identità e infine la partecipazione democratica e quindi avere dei cittadini che siano cittadini attivi e assicurare il pluralismo democratico quindi la pluralità di vedute e anche qui vediamo che nei processi di inclusione dei cittadini stranieri sarebbero motivazioni utili in qualche modo che si possono porre alla base di una loro tutela e analogamente vediamo che anche il professor Aide che è un po' il padre del diritto internazionale della tutela delle minoranze anche lui parlava di parlando delle rivendicazioni comuni delle minoranze le quattro generazioni diciamo quattro generazioni di diritti che in qualche modo corrispondono anche allo sviluppo storico della protezione delle minoranze qui l'idea non è di cioè queste rivendicazioni l'analisi di queste rivendicazioni non comportano necessariamente che a queste rivendicazioni ci siano si risponda con i medesimi diritti perché come ben sappiamo anche all'interno della cosiddetta granitica categoria delle minoranze storico tradizionali ci sono trattamenti estremamente differenziati pensiamo alla protezione al gruppo linguistico il gruppo diciamo di lingua tedesca in alto adige e i sardi o gli occitani e vediamo l'enorme differenza di tutela e di protezione per tantissimi motivi che sappiamo fra queste due minoranze storiche quindi anche all'interno della categoria delle vecchie minoranze ci sono trattamenti molto differenziati e forse ci sono più analogie a volte con alcune vecchie minoranze e nuove minoranze che all'interno che fra vecchie minoranze quindi Haide parlava come rivendicazioni comuni del diritto all'esistenza quindi anche l'esistenza fisica ma anche culturale tramite forme di assimilazione forzata la non discriminazione la salvaguardia dell'identità e quindi similmente sia Ackerman la partecipazione effettiva alla vita pubblica quindi la vita culturale sociale economica e politica andando adesso ad analizzare un po' più in dettaglio la convenzione cioè di quali di quali norme parliamo quali sono le disposizioni che potrebbero essere stese anche ai cittadini stranieri considerati appunto nuove o altre minoranze se andiamo a guardare per esempio la convenzione quadro del consiglio d'europa ma discorso analogo può essere fatto anche con la 482 in italia vediamo appunto questo articolato protezione della diversità in termini linguistici religiosi e culturali divieto di assimilazione forzata la partecipazione alle istituzioni pubbliche i rapporti i contatti con lo stato di riferimento il famoso king state o paese d'origine nel caso potrebbe essere degli stranieri l'uso dei media e il dialogo interculturale e in tutti questi casi la convenzione quadro fa riferimento a ciascun individuo appartenente ad una minoranza nazionale ma per minoranza nazionale sarebbero potenzialmente incluse anche altre minoranze cioè la dicitura non è strettamente limitata alle minoranze storico-tradizionali perché come dicevamo non c'è una definizione giuridicamente vincolante ogni stato definisce i propri i gruppi verso i quali questa legislazione questa convenzione trova applicazione come sappiamo le eccezioni esistono anche in questa convenzione sono alcune eccezioni che vengono introdotte nelle aree abitate tradizionalmente dalle minoranze quindi aree geografiche di insediamento tradizionale la convenzione fa questo riferimento e sono forse le diciamo norme più controverse perché implicano un impegno finanziario e sono l'impiego della lingua minoritaria nei rapporti con la pubblica amministrazione le indicazioni topografiche e l'uso delle lingue minoritarie e l'istruzione quindi il diritto di apprendere la lingua minoritaria o di apprendere altre materie con la lingua minoritaria veicolare in questo caso queste sono quelle che la convenzione quadro in qualche modo pone come delle eccezioni alla diciamo applicazione appunto erga omnes in un certo senso nel tentativo poi di elaborare un sistema comune di protezione un sistema che sia comune ma differenziato mi sono andata a guardare ho suddiviso ho fatto questa tabella cioè ho diviso le vecchie e le nuove minoranze e ho suddiviso da una parte i diritti diciamo rivendicabili in giudizio cioè i diritti cogenti che si possono appunto far valere in giudizio e che quindi sono quei diritti che o provengono da uno strumento giuridicamente applicabile anche da un individuo e per questo motivo ho fatto riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e non alla convenzione quadro che invece pone cioè include delle disposizioni programmatiche rivolte agli stati quindi un singolo individuo non potrebbe utilizzare una norma della convenzione quadro e andare in giudizio per avere un diritto diciamo esigibile e poi quelle che ho definito rivendicazioni legittime cioè quelle che vanno negoziate con la maggioranza e che dipendono dal contesto fattori economici storici e sociali qui parliamo chiaramente di vecchie minoranze che non hanno una nei casi in cui non c'è una legge che le tutela come appunto i ladini oppure una legge ad hoc oppure sono quelle minoranze non riconosciute quindi quali sarebbero queste disposizioni questi diritti che le vecchie minoranze potrebbero rivendicare rispetto alle nuove minoranze allora se andiamo a guardare l'istruzione vediamo che l'istruzione per esempio in una lingua o l'istruzione in un contesto una ristruzione confessionale per esempio finanziata con fondi pubblici vediamo che questo non è previsto dal diritto anche le vecchie minoranze non le possono rivendicare a meno che questa non sia prevista per altri gruppi è una però una rivendicazione legittima ovviamente infatti ci sono molti paesi dove ciò avviene però gli stati possono legittimamente richiedere il rispetto di certi valori di certi principi la stessa cosa avviene in realtà per le vecchie minoranze per quanto riguarda l'impiego della lingua minoritaria a scuola anche questo non è un diritto rivendicabile rivendicabile esigibile in giudizio c'è solo è stata un'eccezione nel caso della corte europea dei diritti dell'uomo in una sentenza ma interpretabile in modo cioè si interpreta in modo estensivo nel caso di Cipro contro la Turchia e si trattava di una ed era relativo all'uso della lingua greca a Cipro Nord e in questo caso appunto lì la lingua minoritaria doveva essere e qui in questo caso la Turchia era stata condannata perché era stata concessa cioè esisteva questo diritto e poi era stato ritirato quindi diciamo paesi che non vogliono concedere l'uso della lingua minoritaria non la devono mai concedere perché se lo fanno e poi la ritirano allora è esatto mentre sono ovviamente delle rivendicazioni legittime per entrambi sia per le vecchie che per le nuove minoranze l'evidenza empirica ci dice che ciò esiste spesso per le vecchie minoranze con un'enfasi soprattutto sulla lingua minoritaria mentre per le nuove minoranze nel caso in cui ciò esiste soprattutto con corsi extracurriculari per esempio c'è una maggiore sulla lingua ufficiale lingua o lingue ufficiali poi andando a guardare per esempio i diritti politici la partecipazione politica molto velocemente diritto di voto attivo e passivo questo è ovviamente un diritto per le vecchie minoranze in base alla cittadinanza non lo è per i cittadini stranieri ma ovviamente lo diventa è un diritto anche per le nuove minoranze nel caso in cui acquisiscono la cittadinanza e in entrambi i casi sono ovviamente delle rivendicazioni legittime almeno a livello locale per quanto riguarda la partecipazione ai processi decisionali cioè quote organi consultivi eccetera anche qui non c'è un diritto esigibile in giudizio per quanto riguarda le vecchie minoranze e così come non lo è per le nuove minoranze infine le autonomie le autonomie anche qui come sappiamo non c'è un diritto esigibile in giudizio ma è questo diciamo non c'è neanche ovviamente per le nuove minoranze e mancano qui c'è un errore ovviamente è una rivendicazione ovviamente legittima qui ovviamente c'è stato un errore per le vecchie minoranze però non è appunto come sappiamo lo sappiamo dalla Catalogna non è un diritto esigibile che si può rivendicare nel caso delle nuove minoranze ci sono stati dei casi non è escluso c'è stato il famoso caso califat contro la Germania in cui appunto una comunità voleva un imame in particolare voleva creare un califato in Germania e questo gli è stato negato mi avvio alla conclusione volendo analizzare in qualche modo i rapporti il rapporto che ha menzionato in qualche modo anche Francesco fra la minoranza e la maggioranza vediamo che questo è un rapporto quasi per definizione asimmetrico cioè l'Unione Europea per esempio quando parla di integrazione tende a presentare questo rapporto come in modo diciamo con molta retorica come un rapporto simmetrico ma in realtà sappiamo benissimo e qui i nostri amici ladini lo sanno il rapporto fra maggioranza e minoranza è asimmetrico c'è un rapporto basato su relazioni di forza di potere però possiamo cogliere fra minoranze vecchie e nuove minoranze una diciamo una differenza generale ma non fra vecchie e nuove minoranze ma non fra di loro ma nel loro rapporto con la maggioranza e quindi vediamo che il rapporto fra vecchie e nuove allora fra le nuove minoranze e il gruppo maggioritario vediamo che questo rapporto è più in qualche modo faticoso è più oneroso è più impegnativo quindi alle nuove minoranze si chiede di più in termini di impegno per esempio al riconoscimento di qualifiche professionali di titoli di studio di conoscenze linguistiche per potersi integrare diciamo all'interno diciamo della società mainstream mentre nel caso del rapporto fra vecchie minoranze e il gruppo maggioritario vediamo che questo rapporto è più diciamo in qualche modo impegnativo per il gruppo maggioritario e quindi ad esempio vediamo dei gruppi maggioritari che sono obbligati ad apprendere la lingua minoritaria questo ovviamente non succede ancora con le nuove minoranze questo accade per esempio in Alto Adige con il gruppo linguistico italiano che nelle proprie scuole deve apprendere il tedesco addirittura lì c'è il fenomeno che la comunità italiana vuole apprendere fortemente l'italiano vuole sempre più ore di italiano di tedesco nella propria scuola quindi volendo pensare ad un sistema di protezione comune ma differenziato la mia proposta è di utilizzare un modello di inclusione basato su diritti umani e delle minoranze che ho definito il tree model l'albero dell'inclusione in cui in pratica le radici rappresentano la pluralità di gruppi diversificati e presenti nella società vediamo poi che la corona quindi il fogliame rappresenta la società diversificata e coesa che risulta come risultante dal processo di inclusione e il tronco rappresenta in qualche modo il filtro dato dal quadro normativo di riferimento cioè i diritti umani e delle minoranze che funzionano attraverso la supervisione degli organi di monitoraggio le corti sovranazionali internazionali e nazionali che decidono quali rivendicazioni le rivendicazioni che vedevamo prima soprattutto il riconoscimento di certe pratiche religiose ad esempio sono compatibili con i diritti umani e quindi sono riconosciute anche nella società e a questo punto possono essere delle rivendicazioni legittime che possono essere riconosciute come diritti anche esigibili e rivendicabili in giudizio quindi in conclusione qui ho avuto una sorta di chiosa poetica e questa è la citazione da Romeo e Giulietta che cos'è un nome? Quella che chiamiamo Rosa avrebbe lo stesso profumo anche con un altro nome quindi in realtà noi ci stiamo dibattendo su questo termine minoranza ma alla fine i gruppi minorità che noi definiamo minoritari e altre minoranze lo sono comunque se hanno dei tratti che devono essere in qualche modo meritevoli di tutela lo sono a prescindere dal nome lo dovrebbero essere in uno stato di diritto e negli stati democratici quindi la proposta è di tendere ad una sorta di superamento ragionare almeno su il superamento di questa presunta dicotomia fra vecchie e nuove e altre minoranze e forse pensare anche a superare lo stesso concetto termine di minoranza to cure e di parlare invece di gruppi distinti di gruppi culturalmente differenziati proprio perché il termine minoranza è anche un termine molto problematica e implica anche a volte una condizione minoritaria di marginalizzazione sarebbe sarebbe forse utile parlare di diritto alla diversità identità basato sui diritti umani e delle minoranze e conclusione in tutti questi processi di diciamo inclusione che portano ad una società più coesa e integrata la società integrata non le minoranze nuove o vecchie integrate ma la società integrata si basano essenzialmente bisognerebbe lavorare su due profili uno lavorare sulla volontà politica delle società maggioritarie perché esse considerino questi gruppi e le diversità individuali e di gruppi come facenti parte della società e l'altro è un attoggiamento a favore di un reciproco accomodamento di istanze e di rivendicazioni quindi questi due elementi cioè la volontà soprattutto quindi bisognerebbe lavorare molto sulle maggioranze che accettino la diversità esistente nella società perché questa possa essere più coesa e integrata e dall'altro questo reciproco accomodamento e questi due elementi non sono assolutamente scontati ma anzi sono soprattutto in questo periodo sappiamo comportano e implicano un grossissimo impegno su diversi fronti e non solo da parte della maggioranza ma anche delle minoranze stesse soprattutto il reciproco accomodamento deve provenire molto anche dalle minoranze e con questo io ho concluso buon dì tel poi grazie per l'ospitalità è veramente un piacere essere qui grazie Roberto Tognati per averci radunato qui e grazie veramente di averci offerto questo istituto questo museo e questo paese il tema che mi è stato assegnato è costituzione e multiculturalismo e ragionerò sulle sensibilità delle norme costituzionali su minoranze e cultura agli immigrati quindi il mio focus è appunto quello di capire posto che la legge 482 del 1999 protegge già lingua e cultura di 12 gruppi riconosciuti dalla legge mi concentrerò appunto sulle altre minoranze chi possono essere alcune le abbiamo già citate appunto minoranze che parlano che hanno quindi che parlano le lingue cinesi arabe rumene indi urdu farsi wolof e provocatoriamente qui ho insegnato anche gli inglesi che si sono stanziati nel Chianti Shire o i parlanti russo in Costa Smeralda perché la globalizzazione produce migrazioni di varia natura sia quelle diciamo traumatiche necessitate da persecuzioni politiche quelle climatiche quelle economiche anche quelle diciamo del turismo stagionale che è anche stagionale però che poi diventa stanziale per cercare appunto di rispondere alla domanda quindi queste minoranze questa seconda lista di minoranze beneficiaria delle di una estensione di norme costituzionali la mia relazione si concentra su tre percorsi argomentativi cioè ho esplorato tre tre filoni argomentativi e partirò il primo è una sorta di interpretazione che ho chiamato internazionalistica del concetto di minoranza linguistica la seconda ho provato appunto a incrociare la lingua con altri due concetti fortemente legati all'identità che sono la cultura e la religione farò diciamo implicito nel concetto di pluralismo costituzionale pluralismo democratico però fatto sta che giudici hanno un po' di difficoltà a utilizzare appunto soltanto nel 2018 per la prima volta la corte di Cassazione ha parlato di diritti culturali dell'immigrato ecco quindi per un antropologo premessa per un antropologo la differenza tra lingua cultura religione è un non senso nel senso che è tutto un tutt'uno unitario che contribuisce alla socializzazione alla formazione dell'io della persona invece vedremo che da questa triade il diritto ricava le soluzioni normative più disparate e diversificate e infine l'ultima parte mi sono soffermata specificamente sull'articolo 6 perché ho trovato c'è già numerosa dottrina che ne sostiene l'estensibilità oltre le minoranze storiche quindi vi riporterò un po' i principali argomenti iniziamo dal primo percorso argomentativo l'interpretazione internazionalista non potevo ripercorrere tutto il diritto internazionale però mi sono soffermata su un aspetto interessante una premessa le fonti di diritto internazionale quindi gli obblighi internazionali che l'Italia ha sottoscritto dal 2001 sono sicuramente superiori alla legge statale e regionale che si devono conformare il nuovo articolo 117 della Costituzione l'Italia nel 1966 ha aderito al patto internazionale sui diritti civili e politici che contiene una disposizione l'articolo 27 per noi molto rilevante ve la leggo in quegli stati nei quali esistono ecco soffermiamoci già su questa parola perché poi vi mostrerò come è stata interpretata minoranze etniche religiose o linguistiche quindi la triade che è il diritto individua la cultura la religione e la lingua gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua in comune con gli altri membri del proprio gruppo quindi questa norma c'è utile anche per capire che i diritti linguistici di cui stiamo parlando sono individuali individui appartenenti ad esercizio collettivo in comune con gli altri membri del gruppo identica disposizione quasi fotocopia la troviamo anche in un'altra convenzione delle Nazioni Unite quella sui diritti del fanciullo del 1989 all'articolo 30 cioè anche il bambino e l'adolescente ha questo diritto se appartiene a una minoranza appunto far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo su queste disposizioni sono sorti diversi problemi interpretativi molti stati ad esempio dicevano ma noi non abbiamo minoranze perché non li riconoscevano non ne classificavano nessuna e quindi come se noi fino al 99 potevamo dire no non abbiamo minoranze al netto delle leggi regionali che le riconoscevano ecco quindi nel 1994 il comitato dei diritti umani preposto appunto all'interpretazione all'attuazione di questa di questa carta hai messo un parere interpretativo che c'è molto utile che dove ora vi leggerò alcuni stralci perché dilata enormemente questo concetto di minoranza sia culturale che religiosa e linguistica dice che i termini usati nell'articolo 27 indicano che le persone destinatarie della protezione sono quelle che appartengono a un gruppo e che hanno in comune una cultura una religione e una lingua questi termini indicano che i destinatari della protezione non devono essere cittadini dello stato parte quindi diciamo a livello di questa interpretazione fa cadere il requisito della cittadinanza che spesso noi citiamo come necessario rispetto alla protezione collegata all'articolo 6 della costituzione interessante perché va addirittura oltre e dice a me interessa che queste minoranze esistano la norma dice esistono in uno stato parte non è rilevante neanche determinare il livello di permanenza che il termine esistono implica e cita due tipologie quindi lavoratori migranti o persino visitatori di uno stato che integrano tali minoranze hanno diritto a non veder negati tali diritti chi sono questi visitatori visitor in inglese ora i turisti i turisti insomma effettivamente direi che li possiamo escludere però possiamo pensare non so a dei per esempio a dei pellegrini che periodicamente stagionalmente attraversano un territorio oppure a quei casi che vi dicevo prima di persone che si stabiliscono stanzialmente come gli italiani in Portogallo o i tedeschi ad Alicante o appunto gli inglesi nel Chianti e Shire o i russi in Costa Smeralda quindi è molto estesa come vedete è interessante anche perché toglie in qualche modo per evitare appunto stati che negavano la qualifica di minoranza e dice non dipende da una decisione di quello stato ma la definizione l'esistenza di una minoranza richiede di essere stabilita da criteri oggettivi quindi diciamo questa interpretazione internazionalista dei doveri anche che l'Italia ha rispetto al patto ovviamente porta a delle conclusioni estremamente estensive il concetto di minoranza linguistica è molto ampio e quindi diciamo da questo versante sembrerebbe che l'estensione sia possibile non soltanto agli immigrati diciamo stanziali ma anche a quei visitors che abbiamo identificato passiamo alla seconda percorso argomentativo ho parlato appunto ho detto non trattiamo la lingua o l'articolo 6 in modo isolato vediamoli come parte di una triade che anche in qualche modo la legge del 99 dice proteggo la lingua e la cultura perché collego la lingua alla cultura alla religione mi sembra che ormai della lingua possiamo dare tre definizioni una asettica per cui è un sistema comunicativo la lingua è un sistema di comunicazione l'altra è una definizione diciamo di potere a me piace molto la definizione per cui una lingua è un dialetto con un esercito cioè in effetti anche la dignità di lingua al sardo o al ladino gliela dà anche un elemento di potere quindi questa è una definizione che coglie l'elemento di potere del quale le minoranze sono prive e l'altra è la definizione romantica della lingua come spirito di un popolo e l'identità di una persona e in questo senso la leggerò in questa relazione perché in questo modo possiamo ricollegare in questo sentimento prevalente attualmente perlomeno tra le minoranze possiamo ricollegare una serie di implicazioni costituzionali quindi l'obiettivo è quello di capire se esiste un principio multiculturale in costituzione che possa giustificare appunto la protezione di lingua cultura e religione che la costituzione tratta in modo separato e che quindi possa costituire una sorta di ombrello allora innanzitutto appunto l'estensione alle altre minoranze perché un primo fondamento potremmo ravvisarlo nell'articolo 2 se accogliamo la definizione di lingua come elemento dell'identità i gruppi linguistici come formazioni sociali la protezione della lingua è collegata al principio personalista è un principio costituzionale che pone al centro dell'universo di tutti i diritti la persona che però non è vista come una monade isolata rispetto al tessuto in cui si socializza perché l'articolo 2 vedete parla dell'uomo come singolo e nelle sformazioni sociali quindi in questo senso il gruppo il gruppo ladino il gruppo sardo potrebbe essere appunto una formazione sociale in cui la persona si forma pienamente e lo stesso non potremmo negarlo ai cinesi al gruppo cinese al gruppo dei senegalesi che parlano il wall off eccetera dunque sull'articolo 3 ecco qui l'articolo 3 collega il divieto di discriminazione per motivi di lingua alla cittadinanza quindi in questo senso qui potremmo ragionare se appunto questo articolo ci riporta alla se lo interpretiamo in modo letterale al requisito dei cittadini l'articolo 9 altro articolo importante che viene spesso citato come il fondamento di un multiculturalismo in costituzione questo articolo ci dice che la repubblica promuove lo sviluppo della cultura è la ricerca scientifica e tecnica che cosa si intende per cultura i costituenti avevano in mente un'idea di cultura non come alta cultura perché quella è rappresentata dall'altro pezzo dell'endia di ricerca scientifica ma pensavano alla cultura come vita sociale della comunità quindi l'arte gli spettacoli la vita intellettuale e artistica non so ai tempi l'Italia era diciamo era vista come omogenea non lo era però diciamo che in una interpretazione evolutiva la cultura oggi questo termine cultura va inteso in senso antropologico in senso antropologico e quindi in un'interpretazione evolutiva potremmo dire che la cultura italiana la cultura è cambiata della repubblica non italiana la cultura che la repubblica vuole promuovere è cambiata con sei milioni di immigrati è cambiata anche con il riconoscimento delle minoranze storiche quindi è un concetto che si allarga se invece vediamo la lingua come patrimonio storico quindi anche questa interpretazione diciamo se la lingua è parte del patrimonio storico della nazione gli spazi interpretativi magari si restringono perché della nazione sembrerebbe della nazione italiana e quindi ritornano i discorsi dell'autotonia storicità cittadinanza e altro l'articolo 19 è un altro è l'articolo che protegge la libertà religiosa ripeto per gli antropologi queste distinzioni non hanno senso ma ve l'ho voluto mettere per far vedere come la libertà religiosa diciamo la religione di questa tria di lingua e cultura è quella assolutamente più protetta per ragioni storiche già evidenziate dal professor Toniati in Europa ci si uccideva ci si è uccisi per secoli per le diversità religiose e quindi la diversità religiosa ha lo status di libertà fondamentale eccelsa per cui quando anche un immigrato si reca in giudizio a proteggere un aspetto della sua religione gioca direttamente l'articolo a un articolo della costituzione da utilizzare e anche i giudici nell'argomentare possono argomentare usando una libertà fondamentale cosa che oggi non fanno con la cultura perché i giudici hanno trattato almeno fino al 2018 la cultura come una consuetudine un uso un costume che l'immigrato porta con sé dotato di valore costituzionale ma non meglio precisato su cosa appoggia questo valore costituzionale perché appunto non c'era un articolo esplicito di riferimento e i giudici non hanno mai usato il patto del 1966 non hanno utilizzato per quanto riguarda la cultura degli argomenti costruendola come un diritto soltanto nel 2018 abbiamo questa questa inversione di tendenza terminologica un articolo che secondo me è interessante anche se apparentemente non è pertinente è l'articolo 25 quando recita che nessuno può essere dissolto dal giudice naturale precostituito per legge secondo me questo articolo fonda un obbligo del giudice di conoscere la cultura dell'immigrato che va a giudicare perché il giudice naturale era nella rivoluzione francese il giudice del borgo cioè il giudice del luogo da cui l'imputato proveniva in grado di contestualizzare la sua condotta è in grado di compiere una corretta ermeneutica del fatto cioè in grado di interpretare di sapere che un bacio sui genitali del bambino in Albania è una pratica di omaggio ai genitali del bambino in quanto maschio in quanto strumento di procreazione di prosecuzione della famiglia e non un gesto pedofilo il giudice naturale è un giudice in grado di capire che indossare un velo in testa non è necessariamente un simbolo di oppressione della donna ma è collegato alla modestia è collegato a una visione del pudore del corpo che ha un certo significato ci sono tanti casi tanti casi di errori sul fatto di incorretta ricostruzione dell'ermeneutica nel fatto da parte dei giudici italiani per mancanza di conoscenza delle pratiche culturali che gli immigrati pongono in essere vi ho citato il caso del bacio dei genitali del bambino del padre albanese che è il caso in cui questo padre rischia nove anni di carcere perché è stato confuso con un gesto pedofilo ci sono altri casi in Sardegna per esempio numerosi immigrati hanno acceso fuochi rituali per commemorare i morti in sostituzione della pira perché ovviamente non bruciavano il cadavere però hanno acceso questi fuochi rituali che si sono ovviamente scontrati con la legislazione antincendio e quindi anche in questo caso la ricostruzione corretta del fatto potrebbe essere utile questo giusto per farvi alcuni esempi di come oltre alla lingua gli immigrati appunto come possono essere incorporati il loro il loro vissuto e le loro pratiche nel contesto costituzionale che conclusioni possiamo trarre da questa quindi brevissima ma intensa diciamo lettura sistematica di più norme della costituzione rispetto alla nostra domanda cioè estensibile allora diciamo che la costituzione prevede differenze di trattamento tra la lingua la cultura e la religione cioè mentre il diritto internazionale in qualche modo almeno il patto del 66 le accomuna invece in costituzione sono trattate in modo diverso la cultura cioè diritti culturali intesi in senso antropologico non sono neanche nominati esplicitamente la lingua è nominata all'articolo 6 la religione è una libertà fondamentale quindi ci sono delle differenze però possiamo senza dubbio dire che il principio multiculturale è una specie del principio pluralista ecco quindi in teoria sarebbe bello non doverlo difendere cioè non doverne argomentare l'esistenza dovrebbe essere implicito però è anche vero che nel diritto costituzionale si distingue tra le 80 costituzioni che riconoscono il multiculturalismo e le altre 110 che non hanno non hanno menzione quindi diciamo rispetto però tutto tutto ciò considerato mi pare che comunque l'articolo 2 soprattutto il principio pluralista costituiscono un fondamento diciamo di questa estensione nel momento in cui consideriamo la lingua un elemento così forte dell'identità passiamo ora invece alla dottrina sull'articolo 6 perché potremmo anche ragionare se lo stesso articolo 6 in sé per sé considerato contenga già degli elementi per la estensibilità alle altre minoranze e qui vi cito appunto ho raccolto un po' vari lavori uno che vi consiglio di Matteo Kosulic del 2012 apparso su quaderni regionali che fa una sintesi di tutte le posizioni anche di relatori seduti a questo tavolo e lui appunto ho riassunto vari argomenti il primo è che l'interpretazione letterale dell'articolo 6 non preclude cioè la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche non dice le minoranze linguistiche nazionali certo i lavori preparatori appunto sembrerebbero ai tempi appunto non c'era la questione dell'immigrazione quindi apposite norme anche lì non dice non le riserva a delle categorie quindi non c'è un vincolo non c'è un blocco letterale l'interpretazione storica potrebbe bloccare invece il testo dell'articolo 6 al 1948 ma sul punto la dottrina italiana dice non possiamo operare questa pietrificazione se la operiamo per l'articolo 6 quindi per le minoranze esistenti nel 1948 allora la dobbiamo operare anche per le confessioni religiose citate dall'articolo 8 le confessioni religiose nel 1948 c'erano gli ebrei i valdesi e oggi abbiamo appunto ci sono intese in corso con i buddisti con l'islam che non si riesce a fare ma sarebbe assurdo congelare il testo quindi l'interpretazione storica viene scartata interessante anche c'è chi dice quindi c'è anche una coincidenza di gruppi cioè ci sono delle minoranze delle altre minoranze che coincidono con le minoranze storiche vedete albanesi catalani la lingua albanese catalano delle popolazioni germaniche tedesco per semplificare sloveno croato francese potrebbero coincidere con dei gruppi gli albanesi di sicuro tutta l'Africa francofona potrebbe appunto in qualche modo essere coperta quindi sarebbe irragionevole si dice allora perché questi sì solo per la mera coincidenza e gli altri invece invece no comunque diciamo quando i gruppi linguistici coincidono in questo caso si dice non c'è problema sull'estensione sempre si ricorre anche il requisito della territorialità che poi è quello diciamo che la legge individua però per esempio ci sono molti territori dove i senegalesi ad esempio sono stanziati e quindi si potrebbero avanzare ecco parlando francese tutta l'Africa coloniale che era colonia francese potrebbe in teoria secondo questa lettura accedere alle classificarsi come francofona il criterio ecco l'idea della nazione italiana anche questo è stato che sarebbe un criterio che è preclusivo alla sensibilità è stato scartato perché la logica di protetto molte delle minoranze protette sono minoranze storiche sono minoranze nazionali cioè di nazioni non italiane appunto come le popolazioni germaniche ecco per fare un esempio però ecco la questione è che il criterio è quello della territorialità il criterio della territorialità è superabile le altre minoranze lo rispettano o no e qui forse domani vedendo i singoli casi di studio potremmo capire meglio visto che la legge appunto richiede anche per la identificazione che abbiano un territorio questo è un elemento che diciamo mi sembra che la dottrina quasi unanimamente riconosce come importante per accedere al riconoscimento dei benefici appunto dell'estensione anche della legge delle prerogative quindi sto parlando di toponomastica di corsi di lingua nelle scuole quindi diciamo che da questa interpretazione emerge che non ci sono delle preclusioni verso l'estensione ad altre minoranze quindi circoscrivendo l'analisi all'articolo 6 vorrei poi fare delle conclusioni generali diciamo sul mio intervento perché noi abbiamo appunto che la mia conclusione diciamo è questa abbiamo quando parliamo di minoranze storiche di altre minoranze abbiamo l'idea appunto abbiamo anche l'idea della lingua come dialetto con un esercito cioè questi sono dialetti senza no lingue senza esercito possiamo dire così e quindi abbiamo l'idea della protezione abbiamo di fronte gruppi vulnerabili da proteggere secondo me per accedere veramente ad una estensione della protezione dovremmo cambiare il paradigma e guardare alla diversità linguistica come un bene pubblico cioè come un bene di cui si beneficia anche la maggioranza accedere appunto ad una visione non protettrice ma veramente di diversità che è poi quella se vogliamo con questa slide concludo che è contenuta anche nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2007 che infatti guarda caso non parla più di minoranze dopo gli anni 90 ma dice diversità culturale religiosa e linguistica l'Unione rispetta la diversità culturale religiosa e linguistica quindi per quanto importante e utile anche a livello strategico per condurre delle lotte mi sembra che soltanto quando interiorizzeremo quest'idea della diversità come bene della democrazia che beneficia a tutti potremmo veramente ci verrà naturale estendere la protezione e anche maturare una sana indifferenza verso le differenze cioè un atteggiamento in cui si torna all'antica Toledo del Medioevo alle città europee dove tutte le differenze coesistevano in una sostanziale reciproca indifferenza nel senso che se uno parlava il ladino e il sardo non ci si faceva più di tanto caso se uno educava il figlio in un certo modo si vestiva in un certo modo ecco non era faceva parte appunto del tessuto quotidiano un tessuto di diversità con questo concludo e vi ringrazio ancora grazie mi sembrano due relazioni ricche di spunti come sappiamo molti di noi sanno la collega Francesca Biondi del Monte non si sente molto bene quindi rinvia il suo intervento a domani non so cosa vogliamo fare se anticipare ancora o se discutere se anticipare un intervento di domani oppure discutere invece di queste due relazioni anche un break è possibile un altro mondo è possibile allora mi pare opinione maggioritaria a questo punto e quindi la maggioranza ha sempre ragione ma direi 10 minuti un quarto d'ora non lo so in modo da solo qui io mi affido all'interpretazione dominante va bene dai circa un quarto d'ora flessibile tanto si usa generosamente offerta dai nostri ospiti e allora anticipiamo ad oggi quindi la relazione della professoressa Valeria Pergigli mentre appunto domani parlerà Francesca Biondi e direi che allora ascoltiamo la relazione di Valeria Pergigli e poi apriamo la discussione su tutti gli interventi grazie Valeria anche per la disponibilità e la flessibilità grazie grazie dell'invito e dell'ospitalità in questa bellissima sede allora il mio tema concordato con il professor Toniatti è intitolato la mancata tra parentesi mancata tutela di Roma e Sinti in Italia visto che si è anche accennato in diverse occasioni già in questa prima parte diciamo del convegno a queste comunità forse insomma anche per questo può essere insomma utile provare da parte mia ad entrare un po' più insomma nel dettaglio di questa tipologia minoritaria e quindi delle problematiche insomma che questa tipologia minoritaria pone nell'ordinamento italiano ma non solamente nell'ordinamento italiano io vorrei introdurre in maniera molto asettica con qualche precisazione lessicale ci provo e qualche dato numerico nel diritto internazionale si usa molto l'espressione Roma anzi l'unica espressione quando si parla di questo tipo di minoranze l'unico riferimento è in senso globale onnicomprensivo alle popolazioni Roma e quindi il termine Roma è un termine appunto che abbraccia in realtà tante comunità per esempio quelli che si chiamano i gitani i gipsis i calè i sinti altre comunità girovaghe che sono state già citate come i camminanti siciliani poi ci sono i tinkers irlandesi quindi il mondo Rom è in realtà un mondo molto variegato in Italia i Rom sono a loro volta suddivisi in numerosi sottogruppi e i Rom in senso proprio sono stanziati prevalentemente nelle regioni centro-meridionali dell'Italia mentre i sinti che sono poi anche il gruppo di più antica immigrazione in Italia sono stanziati prevalentemente nel nord Italia dove assumono peraltro denominazioni diverse a seconda di dove sono insediati quindi a seconda dell'insediamento territoriale quanto ai dati numerici la popolazione Roma quindi intesa in senso globale in senso onnicomprensivo secondo i dati che ho trovato che magari non sono recentissimi però non ne ho trovati di ulteriori quindi mi attesto su queste cifre la popolazione Rom in Europa nel continente europeo si aggira intorno ai 10-12 milioni di persone di cui circa la metà 6 milioni sono stanziati più o meno stabilmente nell'Unione Europea cioè nei paesi dell'Unione Europea la presenza dei Rom in Europa risale al XIV secolo è una popolazione che arriva dall'Oriente si dice prevalentemente dall'India gli insediamenti in Europa risalgono al XIV secolo quindi parliamo di una comunità una popolazione ho usato anche questa espressione molto variegata e molto risalente anche storicamente quanto a insediamento in Europa e anche insomma di una certa consistenza numerica in Italia quanti sono i Rom non ci sono Rom uso in questo momento un'espressione anch'io onnicomprensiva cioè comprensiva anche dei sinti dei camminanti siciliani non ci sono censimenti ufficiali quindi possiamo parlare di stime approssimative e anche qui essendo delle stime i numeri variano un po' diciamo all'incirca fra le 110 e le 170 80 mila persone altrove ho trovato 120 180 mila persone di queste 120 180 mila persone la metà all'incirca sono Rom di cittadinanza italiana gli altri che non sono cittadini italiani da dove provengono e che tipo di nazionalità hanno sono come si diceva anche prima in parte gruppi rifugiati dalla ex Jugoslavia dall'Europa centro-orientale quindi diciamo a partire dagli anni 90 e questi che sono arrivati appunto negli anni 90 dalla ex Jugoslavia dall'Europa centro-orientale in parte sono diventati poi cittadini dell'Unione Europea penso a quelli che provengono dalla Romania dalla Bulgaria altri sono apolidi per esempio i gruppi arrivati dalla Bosnia e Herzegovina dalla Serbia dal Kosovo questo diciamo come dati lessicali e numerici c'è un dato comune a tutti a quasi tutti insomma direi alla generalità dei paesi europei e dell'Unione Europea che ospitano queste comunità il dato comune è costituito dal fatto che tutte queste popolazioni così eterogene che riassumiamo nel termine Rom continuano a condividere ancora oggi come sappiamo esperienze drammatiche di discriminazione di segregazione continuano ancora oggi a essere percepiti come nomadi come zingari appunto in senso spregiativo come stranieri come immigrati in realtà non solo in Italia ma insomma nella gran parte dei paesi europei la maggior parte di queste comunità ormai ha abbandonato quasi completamente la pratica delle migrazioni da uno stato all'altro o da una porzione di territorio ad un'altra all'interno dello stesso stato che in passato migrazioni che in passato erano sì evidentemente state determinate da precise scelte di vita ma che oggi sono state pressoché abbandonate fatte salve naturalmente le espulsioni ordinate dalle autorità pubbliche gli sgomberi forzati a cui ancora oggi frequentemente assistiamo anche nelle nostre città qual è la situazione in Italia di queste comunità io mi vorrei soffrire ho pensato di dare un po' questa impostazione a questo mio intervento partendo proprio dalla legge 482 del 99 che è stata già più volte citata che non menziona queste popolazioni nonostante questo silenzio si potrebbe forse dire però che poi spiegherò anche le ragioni che nel nostro ordinamento a livello nazionale a livello statale possiamo dire che siamo di fronte però nonostante questo silenzio della legge 482 a un riconoscimento tra virgolette implicito di queste comunità un riconoscimento implicito che però non ci rassicura affatto perché dirò che poi è insufficiente è un riconoscimento implicito carente insufficiente inadeguato dal punto di vista delle leggi dello Stato o comunque dell'approccio del legislatore statale del politico anche statale dal punto di vista delle regioni qual è l'atteggiamento che invece traspare è un atteggiamento anche qui posso definirlo anche in questo caso di riconoscimento implicito ma un riconoscimento anche in questo caso non adeguato perché basato su premesse in larga parte superate anacronistiche o comunque ormai erronee e poi vorrei dare un cenno appunto a quelli che sono gli orientamenti della comunità internazionale su queste comunità allora nel nostro ordinamento per adesso diciamo a prescindere dalla cittadinanza e a prescindere anche dall'abbandono sì no in parte di questa pratica del nomadismo i rom continuano ancora oggi a essere appunto considerati come gruppi senza patria gruppi senza territorio ancora oggi come nomadi comunità disperse diffuse allo stato diffuso quindi giuridicamente invisibili in realtà noi abbiamo in Italia ho detto prima su quella stima di 120 180 mila persone circa la metà sono cittadini italiani allora rom e sinti di cittadinanza italiana non sono come sappiamo riconducibili alle minoranze linguistiche storiche protette dalla legge 482 non sono neanche considerate minoranze nazionali e quindi appartengono alla tipologia delle minoranze che ancora oggi possiamo chiamare minoranze linguistiche non riconosciute quindi una categoria se vogliamo residuale ma ancora presente la legge 482 del 99 si è detto ha abolito questa distinzione fra minoranze riconosciute e non riconosciute perché ne ha riconosciute 12 gruppi ma alcuni sono rimasti fuori come appunto i rom e sinti quindi sono minoranze linguistiche non riconosciute almeno quelle formate da cittadini italiani poi le comunità rom e sinti formate invece da cittadini di paesi extra europei e qui la loro condizione giuridica come è stato detto anche prima forse può essere avvicinata a quella degli immigrati chiamiamole per semplicità diciamo nuove minoranze quindi comunità di immigrati extra europei diciamo cittadini extra comunitari per semplificare come si diceva fino a qualche tempo fa a cui però le istituzioni pubbliche dovrebbero garantire il godimento dei diritti fondamentali almeno di quelli inviolabili se si tratta poi di minori anche il diritto all'istruzione ovviamente il diritto alla salute almeno per quello che riguarda le cure essenziali poi ci sono i rom e sinti appunto apolidi privi di qualunque cittadinanza e per costoro dovrebbero valere le norme di tutela sancite nella convenzione sullo status degli apolidi che l'Italia ha ratificato e anche nella convenzione ONU sulla riduzione dei casi di apolidia che pure l'Italia ha ratificato i due obiettivi che le istituzioni pubbliche dovrebbero avere e anche le istituzioni pubbliche sia statali che locali dovrebbero avere presenti nei confronti di queste comunità io credo che sono di due tipi cioè sono da una parte l'obiettivo del mantenimento come si è già detto parlando appunto di minoranze storiche della identità linguistica culturale quindi del patrimonio anche di valori che queste comunità possiedono e dall'altra parte però in molti casi specie se si tratta di non cittadini e quindi analogamente il discorso un po' si avvicina a quello che si fa normalmente per gli immigrati per gli immigrati stanziali regolarmente presenti sui nostri territori e cioè l'obiettivo della progressiva inclusione sociale della progressiva integrazione due obiettivi ambiziosi difficili da realizzare apparentemente anche in contrasto fra loro da una parte l'inclusione nella società maggioritaria nel tessuto sociale ma nel mantenimento della propria identità culturale su questi due obiettivi sul perseguimento di questi due obiettivi insistono da tempo con riguardo all'Italia ma non siamo gli unici ovviamente a essere richiamati sul perseguimento di questi due obiettivi insistono da tempo gli organismi internazionali uno per tutti è stato già citato prima il comitato consultivo del Consiglio d'Europa che monitora l'attuazione della più volte citata convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali che l'Italia ha ratificato e gli organismi internazionali tra cui appunto il comitato consultivo del Consiglio d'Europa da tempo sollecita l'Italia a effettuare un riconoscimento ufficiale un riconoscimento formale di questa comunità allora dicevo perché ho detto prima un riconoscimento implicito da parte dell'ordinamento statale italiano verso queste comunità la legge 482 del 99 ha scelto nella sua stesura definitiva di omettere qualunque riferimento a Rom e Sinti perché quella legge è intitolata norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche Rom e Sinti sarebbero comunità nomadi disperse sul territorio diffuse non radicate territorialmente quindi non potrebbero a loro applicarsi le norme della legge 482 quindi sono state volutamente estromesse da quella lista che elenca appunto 12 gruppi ora io credo che se il legame con se il legame di una comunità con un determinato territorio rende sicuramente più agevole poi anche il riconoscimento di questo gruppo e quindi consente anche al gruppo di meglio conservare le sue peculiarità di meglio tramandare il proprio patrimonio anche di valori non credo che ci siano ragioni insomma legittime apparentemente per escludere almeno dal diritto alla protezione alla salvaguardia della rispettiva identità culturale quelle comunità che non sono caratterizzate dai requisiti della stanzialità e della autoctonia se guardiamo a quel documento che pure è stato citato in apertura la carta europea delle lingue regionali o minoritarie altro documento del Consiglio d'Europa degli anni 90 che l'Italia appunto non ha ratificato non a caso come facevi anche capire tu Francesco l'Italia ha soltanto firmato questo documento nel 2000 ma non l'ha ratificato ci sono state varie proposte di legge ma non si è mai arrivati al dunque questa carta che pure è una convenzione una convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa tutela le lingue quindi non direttamente le minoranze nazionali ma le lingue regionali o minoritarie e offre anche una definizione di lingua regionale e di lingua minoritaria però poi aggiunge anche che le disposizioni contenute in questo documento con gli opportuni adattamenti quindi con la giusta con la dovuta flessibilità quelle disposizioni si possono applicare anche alle lingue sprovviste di territorio ma parlate tradizionalmente da cittadini dello Stato sebbene appunto non riferite ad aree geografiche circoscritte e allora la lingua romanese come si dice potrebbe rientrare in questa tipologia lingua non territoriale lingua sprovvista di territorio ma l'Italia appunto non sta ratificando insiste diciamo così nel mantenere questo riservo sulla ratifica di questo documento di questa carta delle lingue quanto al nomadismo ammesso sempre che questa pratica continui ancora oggi ad essere diciamo adeguata ad attagliarsi al modo di vita allo stile di vita di queste popolazioni rom e sinte anche il nomadismo in teoria non credo sia proprio inconciliabile con la sopravvivenza di tradizioni culturali proprie di queste comunità itineranti e non credo sia inconciliabile il nomadismo con il mantenimento comunque di un vincolo di solidarietà fra gli appartenenti a queste comunità e questo anche a prescindere che ci sia o meno un rapporto di cittadinanza con lo Stato se poi ripeto consideriamo i gruppi rom e sinti di antico insediamento che sono presenti sicuramente in Italia da molte generazioni che sono formati da cittadini italiani non dovrebbero esistere ostacoli per estendere a questi gruppi almeno a questi gruppi la disciplina dettata dalla legge 482 del 99 c'è da dire che dopo l'entrata in vigore di questa legge che appunto come appunto dicevo prima ha omesso volutamente di menzionare rom e sinti dopo l'entrata in vigore di questa legge si sono susseguiti varie proposte o per introdurre un riferimento quindi introdurre nella lista delle minoranze storiche anche rom e sinti o per presentare dei provvedimenti organici ad hoc di tutela proprio di queste comunità ci ritornerò poi sopra nessuna di queste iniziative però né il provvedimento ad hoc né le modifiche le proposte di modifica alla legge 482 hanno finora visto nessuna di queste proposte è stata coronata da successo ho detto di un riconoscimento implicito allora in che senso da parte diciamo così dell'ordinamento italiano verso questi gruppi mi riferisco è stato anche accennato prima al fatto che l'Italia ha ratificato non la carta delle lingue ma la convenzione quadro sulle minoranze nazionali nel 97 e fin dal primo rapporto presentato al comitato consultivo dal governo italiano nel 99 il governo italiano ha inserito un riferimento anche se era solo un cenno senza nessuna altra informazione specifica ha inserito anche un cenno ai rom e sinti quindi come dire una sorta di presa d'atto dell'esistenza di queste comunità nel presentare il rapporto al Consiglio d'Europa sull'attuazione della convenzione quadro sulle minoranze nazionali quella convenzione quadro nella ratifica di quella convenzione diversi stati ma non è stato questo il caso dell'Italia diversi stati hanno indicato quali minoranze nazionali andare a proteggere attraverso quella convenzione così come nella ratifica della carta delle lingue regionali o minoritarie molti paesi ratificanti hanno anche individuato le lingue a cui rivolgere poi protezione l'Italia la carta delle lingue non l'ha ratificata nel ratificare la convenzione quadro non ci sono stati riferimenti espliciti ai rom e sinti per questo ho parlato di un riferimento implicito nel rapporto nel primo rapporto del 99 il governo fa riferimento all'esistenza di queste comunità nei rapporti successivi quindi di 2004 2009 2014 quello del 2019 doveva essere presentato circa un mese fa ancora non è stato presentato nei rapporti successivi il governo italiano ritorna a fare riferimento alle comunità rom e sinti in che modo? Dando atto che sono state effettuate insomma in questi anni sono state avviate varie iniziative per la loro tutela dando atto che molte leggi regionali sono state approvate e che si è cercato di fare in modo di favorire l'inclusione sociale di queste comunità quindi diciamo il governo italiano ha voluto dar prova di un impegno che comunque ha cercato di dimostrare nonostante i problemi concreti verso queste comunità e il comitato consultivo nell'esprimere diciamo i suoi pareri e poi le sue risoluzioni finali ha sempre diciamo un po' rimproverato ridarguito il nostro paese invitandolo raccomandando a fare di più a riconoscere per esempio le comunità rom come minoranze linguistiche o come minoranze nazionali quindi a effettuare un riconoscimento ufficiale e a dettare una disciplina che fosse una disciplina organica non frammentata e lasciata ai legislatori regionali dunque un riconoscimento chiamiamolo così implicito il professor Palermo ha parlato di un riconoscimento incompleto settoriale forse anche involontario a questo punto e un riconoscimento che aggiungo io non è comunque incoraggiante perché è carente perché in larga misura è da attuare perché molto spesso come sappiamo insomma da quello che apprendiamo quotidianamente anche negli ultimi giorni quello che è successo a Roma è un approccio sempre prevalentemente guidato dalla tendenza ad affrontare la cosiddetta questione Rom in termini di gestione dell'emergenza di tutela dell'ordine pubblico quindi siamo lontani dalla promozione sociale dall'inclusione dalla salvaguardia della identità culturale di queste comunità a livello regionale cosa è successo? allora a livello regionale fin dalla metà degli anni 80 quindi molto prima della legge 482 le leggi le regioni sia ordinari che speciali si sono molto diciamo date da fare per per la tutela poi adesso sarò un po' più precisa di queste comunità Rom e Sinte anche qui però le leggi regionali hanno molto indugiato sul riconoscimento del diritto al nomadismo come di un tratto culturale che continua a caratterizzare queste comunità ci sono state poi iniziative legislative più recenti quindi le prime leggi risalgono alla metà degli anni 80 del secolo scorso molte di queste leggi sono state poi negli anni riformate integrate addirittura sostituite ma anche solo leggendo i titoli di queste leggi si resta dell'idea che diciamo l'approccio è ancora quello verso le comunità nomadi girovaghe i titoli sono i titoli delle leggi sono norme a tutela delle popolazioni o etnie o minoranze nomadi seminomadi zingare ecco il più delle volte è questa l'intitolazione che troviamo nelle leggi regionali e poi queste leggi oltre a disciplinare appunto il cosiddetto diritto al nomadismo quindi a prevedere norme sui campi sosta e sui campi attrezzati per la sosta di queste comunità molte di queste leggi si soffermano cercano insomma di prevedere misure per i servizi sociali per favorire quindi l'istruzione l'inclusione a livello sociale ma di fatto poi queste norme il più delle volte non sono state applicate per le ragioni che possiamo facilmente immaginare perché il timore di perdere il consenso elettorale da parte degli amministrati insieme al pregiudizio sociale all'esigenza di mantenere l'ordine pubblico insomma si sono tutti i fattori che hanno portato poi alla non attuazione di queste norme anche questo lo chiamerei un riconoscimento implicito ma un riconoscimento basato su premesse ormai anacronistiche o comunque in larga parte superate qui però mi vorrei soffermare su alcune iniziative che chiamerei virtuose allora prima un dato per chiudere la parentesi diciamo così negativa la prima legge regionale ad essere stata approvata in Italia tutela delle popolazioni sia pure rom sinte nomadi eccetera è stata la legge della regione Veneto del 1984 che ha fatto diciamo da pioniera nel bene e nel male verso perlomeno la presa d'atto una certa sensibilità verso questa tematica 1984 questa legge viene sostituita nell'89 e viene poi abrogata formalmente nel 2016 senza essere più sostituita da nessuna altra normativa questo per dare proprio l'idea del punto più basso a cui si è probabilmente arrivati passiamo invece alle esperienze che considero virtuose almeno sulla carta almeno per quello che si può intuire dalle previsioni formali poi naturalmente tutte queste norme devono essere applicate e qui possono nascere poi dei problemi allora un primo elemento è il fatto che ad esempio lo statuto della regione Calabria il nuovo statuto della regione Calabria 2015 fa riferimento alla tutela e valorizzazione della popolazione Rom fra le finalità della regione e poi ci sono tre leggi regionali su cui mi vorrei velocemente soffermare che sono interessanti secondo me seguo un ordine cronologico la prima è una legge della regione toscana del 2000 intitolata interventi per i popoli Rom e Sinti e questa è la terza legge di questa regione che quindi sostituisce una prima legge della fine degli anni 80 e una seconda legge della metà degli anni 90 questa legge che poi è stata anche un po' imitata da quelle che citerò fra un attimo prevede interventi per la residenzialità e il transito e attività necessarie per una migliore integrazione sociale di queste comunità in particolare nella disciplina delle politiche abitative questa legge non fa più riferimento ai campi nomadi per sostituire invece questo chiamiamolo così modello dei campi nomadi con modelli diversificati di soluzioni abitative che vanno dalla predisposizione di aree attrezzate per la residenza e quindi non solo per la sosta al recupero di edifici pubblici e privati all'utilizzo di alloggi sociali al sostegno economico per il recupero e la messa a norma di strutture anche reperite autonomamente fra questi modelli forse quello più interessante quello più innovativo è quello delle cosiddette aree attrezzate che consiste nella realizzazione di piccoli villaggi in pratica piccoli insediamenti per ospitare i gruppi familiari allargati che sono tipici di queste comunità questi insediamenti hanno una capacità recettiva di circa 60 unità sono strettamente legate al tessuto sociale perché sono previsti anche collegamenti insomma con i servizi scolastici e con i servizi sociosanitari quindi previsioni interessanti diciamo sul piano normativo sul piano dell'effettività la sperimentazione di questi piccoli villaggi non ha diciamo rivelato poi ha avuto un successo piuttosto scarso a quanto mi risulta anche per la difficoltà di andare a localizzare poi queste aree alcuni spunti di questa legge toscana sono stati ripresi dalla legge in vigore nella provincia di Trento e quindi qui chiedo anche l'UMI sulla poi attuazione pratica di questa legge che mi sembra molto interessante legge 12 del 2009 misure per favorire l'integrazione dei gruppi rome e sinti residenti in provincia di Trento mi sembrava molto interessante a leggerla perché prevede diritti e doveri diritti e responsabilità diritti e responsabilità esatto no no è veramente insomma da un punto di vista formale aree residenziali quindi adesso sorvolo perché tanto non è stata attuata aree residenziali aree residenziali anche qui per piccole comunità per piccoli gruppi gli appartenenti a questi gruppi devono dimostrare che almeno una certa percentuale ha svolto la unità lavorativa e quindi hanno anche un reddito gli altri dovrebbero sottoscrivere un accordo per l'integrazione impegnandosi a trovare lavoro entro un certo periodo di tempo e altrimenti la sanzione è l'abbandono insomma degli alloggi e si dice appunto che non ha avuto purtroppo attuazione un altro modello terzo e ultimo che sulla carta è virtuoso nella pratica poi vi dirò perché non ho notizie allora è la legge dell'Emilia Romagna 2015 quindi la più recente delle tre un numero 11 del 2015 che ha sostituito una precedente legge degli anni 80 anche questa intitolata norme per l'inclusione sociale di rom e sinti allora in Emilia Romagna a proposito di numeri che ho dato all'inizio i rom sono circa 3.000 di cui 1.000 sono minori la quasi totalità 95 quasi 96% cittadini italiani questa legge è interessante perché sulla base del diciamo prendendo spunto da un documento da un atto di indirizzo che il governo ha adottato qualche anno fa dietro l'input di una comunicazione dell'Unione Europea il governo italiano ha adottato nel 2012 una strategia nazionale per l'inclusione di rom e sinti su quel modello la legge della regione toscana ha adottato nel 2015 2016 una strategia regionale quindi anche questo un documento di indirizzo uno strumento di indirizzo una strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti articolate in quattro assi così come la strategia nazionale poi faccio riferimento fra un attimo a quella nazionale i quattro assi sono abitazione lavoro sanità istruzione anche qui l'obiettivo di fondo è superare il modello dei campi dei grandi campi sosta quindi questo strumento questa strategia regionale prevede interventi in tema di edilizia e di urbanistica prevede la concessione di contributi quindi di finanziamenti e prevede che ogni tre anni la giunta regionale riferisca al consiglio regionale sulla attuazione di questa legge ora siamo nel 2019 quindi il triennio è da poco concluso ma io ho avuto anche proprio contatti con i funzionari della regione Emilia Romagna purtroppo è a breve si attende la pubblicazione di questa relazione da parte della giunta al consiglio sullo stato di attuazione di questa legge quindi di questa strategia ma al momento non è dato purtroppo non ho elementi insomma per dare conto se questo modello almeno dei tre che ho detto Toscana provincia di Trento Mila Romagna almeno questo si può considerare in qualche modo di successo speriamo ma non ho elementi per effettuare una valutazione nel diritto internazionale come sono considerati i gruppi Rom in generale visto che ho detto prima nel diritto internazionale non c'è questa distinzione fra vari gruppi e sottogruppi si parla di Rom allora risalendo indietro un po' nel tempo 1977 l'ONU ha definito i Rom come la minoranza peggio trattata in Europa a seguire i diversi organismi europei quindi l'OSCE l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il Parlamento Europeo in varie circostanze dagli anni soprattutto 90 in avanti hanno fatto riferimento al fatto che i Rom costituiscono una vera minoranza europea anzi la più numerosa minoranza etnica d'Europa che non si può assimilare alle altre minoranze nazionali o linguistiche perché gli appartenenti a questa comunità godono di diciamo sono titolari di posizioni di una situazione di una condizione non assimilabile a quella delle altre minoranze e in più però sono anche caratterizzati da una situazione di forte svantaggio sociale si è anche detto che la popolazione Roma è una popolazione transnazionale paneuropea non territoriale e quindi gli stati dovrebbero soprattutto adoperarsi prima di tutto contro la discriminazione di queste popolazioni allora sulla scorta di queste affermazioni i vari organismi europei del Consiglio d'Europa ma anche dell'Unione Europea e anche poi il Comitato Europeo contro il Razzismo e l'Intolleranza sulla base di queste premesse l'Italia è stata più volte richiamata quindi non solo il Comitato Consultivo che citavo prima sulla Convenzione Quadro ma anche tutti questi altri organismi internazionali ed europei a più riprese continuano a richiamare l'Italia sul fatto che questa comunità non è tutelata non è tutelata a sufficienza e soprattutto non è ancora riconosciuta come minoranza linguistica l'Italia ha approvato dicevo prima una strategia una strategia nazionale per l'inclusione di Rom e Sinti fino al 2020 e questa strategia nazionale si basa però su una precisa comunicazione che l'Unione Europea aveva rivolto a tutti gli stati membri e la comunicazione è del 2011 sulla base di questa comunicazione l'Italia e gli altri stati membri tutti tranne Malta mi risulta hanno poi adottato almeno sul piano diciamo dell'attuazione formale le rispettive strategie nazionali articolate appunto in quei quattro assi che citavo prima parlando dell'Emilia Romagna quindi l'istruzione l'occupazione la salute e l'alloggio e qual è lo stato di attuazione di questa strategia nazionale almeno per quello che riguarda l'Italia cioè a che punto è l'attuazione del quadro europeo e in particolare a che punto è l'attuazione della strategia nazionale italiana ma dunque c'è da dire anche che sull'attuazione poi come sempre capita di queste strategie nazionali la commissione europea ha sorvegliato in questi anni quindi la comunicazione della commissione europea che ha lanciato le strategie il quadro europeo perché gli stati membri adottassero queste strategie nazionali è del 2011 il periodo coperto diciamo da questa comunicazione che lanciava questo quadro europeo è 2012 2020 quindi sta scadendo a seguire la commissione europea ha effettuato delle verifiche insomma ha relazionato sull'attuazione delle varie strategie nazionali con una serie di rapporti che si sono susseguiti 2015 2016 2017 2018 cosa è emerso da questi controlli da questi rapporti periodici della commissione europea con riguardo per esempio all'italia è emerso che in italia si mantiene ancora l'approccio emergenziale verso queste comunità ci sono stati alcuni apprezzabili interventi da parte dei legislatori soprattutto regionali ma questo non è sufficiente permangono le criticità determinate da atteggiamenti di discriminazione di razzismo di antiziganismo da parte della società permangono carenze anche sul fatto che gli rappresentanti di queste comunità rom e sinte non vengono a sufficienza coinvolte diciamo nei processi decisionali che le riguardano citavo prima gli sforzi per attuare un riconoscimento ufficiale di questa comunità e citavo quindi le proposte che non hanno avuto però esito o di modificare la legge 482 o di elaborare un provvedimento organico ad hoc ecco l'esempio che voglio portarvi di questo provvedimento ad hoc che però purtroppo non ha avuto seguito è un disegno di legge presentato dal senatore Palermo e altri nella passata legislatura porta il numero 770 del 2013 norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei rom e dei sinti e questo disegno di legge era speriamo che venga in qualche modo ripreso io credo molto interessante molto corposo molto articolato perché proprio ritagliato sulle specifiche esigenze di questa comunità quindi non si tratta tanto di andare a inserire tra le comunità tutelate nella legge 482 ci sono anche i rom e sinti perché poi tra l'altro ci sono anche i camminanti ci sarebbero anche altri sottogruppi qualcuno potrebbe diciamo accorgersi tra i vari sottogruppi di essere stato magari omesso qui si tratta invece si trattava invece in questa iniziativa legislativa di prevedere una tutela organica che andasse incontro proprio alle esigenze specifiche di queste comunità quindi una tutela speciale prima di tutto antidiscriminatoria quindi prima di tutto per queste comunità si tratta prima ancora di realizzare come si dice l'uguaglianza sostanziale l'identità la diversità l'inclusione rimuovere gli ostacoli prima di tutto si tratta di realizzare l'uguaglianza davanti alla legge quindi eliminare gli atteggiamenti discriminatori siamo proprio all'inizio nel primo comma dell'articolo 3 della Costituzione e oltre a questo quell'iniziativa dava atto impegnava diciamo lo Stato a una serie di azioni positive che rimuovessero quindi una volta eliminato l'atteggiamento antidiscriminatorio o ridotto l'atteggiamento antidiscriminatorio una serie di azioni positive invece per rimuovere situazioni di svantaggio che queste comunità soffrono da secoli rimuovere situazioni di svantaggio in che modo soprattutto attraverso meccanismi diciamo modelli di protezione di tipo più personale che territoriale visto anche il fatto che queste comunità si continua a dire ancora oggi molto spesso non hanno un radicamento territoriale vivono allo stato diffuso sono disperse sul territorio allora prendendo atto diciamo di queste di questi insuccessi tutto sommato a livello di diciamo di normativa statale e prendendo atto anche delle numerose raccomandazioni che ci arrivano appunto dall'Europa dall'Unione Europea dal Consiglio d'Europa dunque io credo che innanzitutto un riconoscimento ufficiale formale consapevole di questa di questa comunità rom sinta sia opportuno che venga effettuato da parte del legislatore da parte del legislatore nazionale naturalmente un riconoscimento formale ufficiale di per sé non è sufficiente lo dimostrano tanti fatti lo dimostra ad esempio il fatto che in alcuni paesi in alcune costituzioni addirittura di paesi dell'Europa centro orientale dove la comunità rom viene espressamente menzionata poi di fatto la tutela è un po' scarsa per esempio fra le costituzioni che contengono riferimenti espliciti alla comunità rom penso alla costituzione della Slovenia penso alla costituzione della Croazia e anche alla costituzione del Kosovo poi ci sono anche leggi dettate da alcuni di questi paesi a tutela di queste popolazioni come la Croazia come la Bosnia e Herzegovina ma nonostante questi riferimenti espliciti nelle costituzioni o nelle leggi proprio questi paesi poi si dimostrano a prova dei fatti molto carenti tant'è vero che sia sia gli organismi di monitoraggio internazionale sia la Commissione Europea sia la Corte Europea dei diritti dell'uomo come sappiamo continuano a segnalare e a condannare poi alcuni di questi stati per violazioni proprio palesi di norme di protezione di tutela ne cito solamente alcune fra le decisioni del Consiglio d'Europa per esempio le pronunce che hanno condannato il divieto per i Rom di candidarsi alle elezioni pronuncia contro la Bosnia e Herzegovina che hanno condannato gli attacchi ai villaggi Rom e la distruzione di beni contro la Romania episodi di sterilizzazione forzata delle donne Rom una pronuncia contro la Slovacchia episodi di segregazione scolastica sono quelli più diffusi contro la Repubblica Ceca contro la Grecia contro la Croazia contro l'Ungheria anche la Corte di Giustizia ha avuto nel 2015 occasione di emettere una sentenza perché ha riconosciuto il carattere discriminatorio e quindi illegittimo della scelta da parte di un'azienda bulgara di distribuzione dell'energia elettrica di collocare sistematicamente i contatori elettrici a un'altezza inaccessibile nei quartieri abitati da comunità Rom con la motivazione che la popolazione Rom nel suo complesso si renderebbe responsabile di attività di allacciamento illegale alla rete elettrica e allora la Corte di Giustizia condanna la Bulgaria nel 2015 ora sono stati citati prima vari principi della nostra Costituzione che possono essere sicuramente richiamati anche in questa sede per diciamo per un ancoraggio formale per un riconoscimento formale ufficiale di questa comunità l'articolo 2 della Costituzione certamente l'articolo 3 l'articolo 6 della Costituzione e suggerimenti per una lettura più aperta tra l'altro dell'articolo 6 della Costituzione come ci ricordava in apertura Roberto Toniatti ci arrivano anche dalla Corte Costituzionale la Corte Costituzionale ha avuto recente insomma negli ultimi anni occasione di pronunciarsi più volte sulla conformità all'articolo 6 della Costituzione di leggi regionali per presunto mancato rispetto di quella legge appunto 482 che è stata considerata una norma interposta e la Corte Costituzionale ha più volte ribadito 2010 2011 anche 2018 che la legge 482 del 99 che contiene norme per tutelare le minoranze linguistiche storiche non esaurisce ogni forma di riconoscimento a sostegno del pluralismo linguistico ma invece si riferisce esclusivamente alla tutela delle minoranze linguistiche storiche lasciando quindi immaginare spazi per una politica linguistica di tutela o di maggiore tutela anche per gruppi per comunità all'oglotte tradizionalmente non protette o non protette a sufficienza come accade appunto per i Rom e per i Sinti e poi in una pronuncia ancora più recente citavo 2018 a conferma di questa lettura diciamo più aperta estensiva della nostra Corte sempre la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la tutela delle minoranze linguistiche di cui è l'articolo 6 della Costituzione è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze siano esse religiose etniche o nazionali oltre che linguistiche ecco io credo che diciamo gli spazi per una per un formale riconoscimento di queste comunità a cui però dovrebbe seguire un'effettiva implementazione pratica ce ne sono nella nostra nel nostro ordinamento a cominciare dall'articolo 6 della nostra Costituzione vi ringrazio bene grazie siamo rimasti tra di noi quindi direi che possiamo aprire un dibattito molto informale con commenti domande considerazioni critiche qualsiasi cosa ci sono degli spunti io ne ho uno ma il Presidente parla per ultimo ma io avrei due ordini di considerazione allora se 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 posso il primo riguarda un po' il disegno che mi sembra discendere dalle relazioni che ci sono state finora ed è quello in base al quale e forse la più esplicita è stata Roberta che ha fatto anche una che ci ha offerto anche una slide su questo punto con un grande circolo con all'interno delle cellule ecco mettiamola così io io interpreto non ci sono tala una certa valizia che sembrava un'inseminazione artificiale arriveremo anche a quello allora in base a quel disegno in base poi anche no in base a quel disegno sembra di capire che riprendendo le categorie che aveva utilizzato in apertura avremmo una specie di magnum genus minoranze che poi come poi aveva aggiunto Francesco possono essere nazionali linguistiche o storiche e all'interno si manifestano dei fenomeni che sono direi omogenei dal punto di vista qualitativo e rispetto ai quali l'ordinamento italiano sembra essere particolarmente predisposto in base alla lettera dell'articolo 6 da dove prevede le apposite norme già oggi apposite norme diciamo è uno dei principi forse più attuati nel senso che non abbiamo due minoranze che sono destinate alle stesse norme o perlomeno che poi non siano destinate ad essere sviluppate attraverso altre norme regolamentarie e così via penso soprattutto alle minoranze albanesi croate ma anche gli occitani in fondo quindi questo sarebbe il disegno generale un unico magnogenus con poi all'interno delle specie che possono essere a seconda dei casi quelle che sono quelle che sono presenti sul territorio se non altro e rispetto alle quali non si tratta altro che di produrre delle norme ad hoc ecco a questo punto io però avrei alcuni interrogativi il primo il primo come sono organizzate queste altre minoranze è il punto forte secondo me è stato menzionato a proposito del progetto del progetto di legge palermo il momento della partecipazione nella nell'anticipazione di quale grado di riconoscimento tutela e promozione si vuole avere ecco questo della partecipazione mi sembra essenziale e qui mi domando quanto le comunità rom sinti con i camminanti usiamo rom come diceva diciamo ci adeguiamo al linguaggio europeo come ci ha indicato Valeria quale grado di partecipazione vi è e quale grado di diciamo di volontà unitaria vi è di seguire dei percorsi comuni condivisi omogenei e così via sapendo che a monte di tutto questo esiste un problema volontà di integrarsi allora i ladini i mochini i cimbri gli occitani i francesi la minoranza i friulani e così via in realtà non devono risolvere questo problema perché sono già integrati e quindi diciamo quello che loro già godono mettiamola così loro godono di tutti i diritti di cui gode l'italiano medio più di quei diritti che vanno a collocarsi nel differenziale che c'è fra una identità indifferenziata l'italiano medio e una identità differenziata il mochino il cimbro ecco tutto questo è il risultato di proposte di negoziati di discussioni di dibattiti e così via quanto questo coinvolge le comunità rome sinti allora mi permetto di condividere un episodio della mia vita Francesco lo conosce quindi mi scuso con lui tanti anni fa con il primo alto commissario dell'OSCE sulle minoranze nazionali ho partecipato ad alcune delle sue missioni soprattutto laddove c'erano questioni universitarie e andiamo una volta a Cluj Napoca che Francesco conosce bene anche la Roberta che è nella parte diciamo della credo sia proprio Transilvania comunque la parte dove vive la maggior parte della comunità ungherese della Romania che è molto forte perché in quella università le minoranze non si sentivano tutelate e avevano chiesto l'intervento dell'alto commissario noi andammo c'era l'alto commissario e due tra virgolette esperti e incontrammo tutte le diverse delegazioni quindi il primo passo fu di ascoltare le loro richieste e di capire anche la capacità di elaborare delle richieste e che cosa mi ha colpito di questa adesso ci arrivo subito c'era la minoranza di lingua ungherese che evidentemente voleva più insegnamenti in ungherese la minoranza di lingua tedesca che voleva più insegnamenti in lingua tedesca e poi è arrivato il turno del rappresentante degli studenti rom e dei professori rom professori universitari rom e questa non mi nascondo per me è stata un'enorme sorpresa perché non mi sarei mai aspettato vittima come tutti di tanti pregiudizi e così via quindi prima sorpresa seconda sorpresa in cosa consisteva la loro richiesta loro volevano insegnamenti in lingua inglese io l'ho trovata una cosa straordinaria perché a me sembra che sia una scelta legata proprio alla volontà di integrarsi alla volontà di far parte di un contesto di viaggiare la Romania non era ancora nell'Unione Europea ma si parlava perché lo fosse e così via allora questa il fatto che ci fossero delle associazioni di studenti rom di professori rom che parlassero che si capiva dal contesto che non parlavano a titolo personale mi ha lasciato indurre che fosse una realtà a Roma e senti molto diversa dalla nostra dopodiché ammetto che non la conosco a sufficienza per cui evidentemente è un po' colpa mia però questo è anche uno dei motivi per i quali credo la legge trentina sia fallita è fallita perché era troppo buona è fallita perché evidentemente prospettava delle soluzioni che non erano state elaborate da parte della popolazione stessa e allora su questo mi domando quanto si riesce a diciamo mobilitare delle energie delle risorse a maggior ragione qualcuno che ha presentato un disegno di legge perché anche quello trentino è stato presentato in sintonia con i rappresentanti vi posso dire anche il nome del consigliere provinciale esiste tanto buonismo poi lo sappiamo ma una nostra collega Donata Borgonovo aveva addirittura proposto di menzionare Roma e senti nel preambolo di un ipotetico nuovo statuto di autonomia e anche questo mi sembrerebbe un segnale molto forte di attenzione e così via il problema è siamo sicuri di non e non voglio che sia un alibi per non far nulla ma siamo sicuri che non stiamo configurando un dovere di integrarsi piuttosto che un diritto di integrarsi ecco questo sarebbe un mio timore di per sé ma anche perché andremo in un certo senso a compromettere questo bel quadro che stiamo costruendo di un genere e delle e delle species che seguono ecco ancora che cosa conosciamo delle loro strutture organizzative perché da qualche parte ogni tanto si sente parlare che c'è altro il matrimonio del re il matrimonio della regina e così via ecco con chi bisogna dialogare con il re o con la regina e questo non lo dico in maniera provocatoria lo dico proprio perché non saprei che cosa fare altra quindi diciamo in questo modo si tiene conto del fatto comunque che le comunità rome senti hanno le loro diversità le loro specificità e quindi tutto questo sollecita semmai norme apposite e non un'estensione automatica della 482 e questo mi sembra che vada bene ecco secondo intervento oppure ci fermiamo qui non so di allora mi fermo qui andiamo avanti poi facciamo un giro ah ok la seconda cosa invece prende spunto da quanto detto da Ilenia a proposito del giudice naturale perché lei dice il giudice naturale viene ad essere una figura di giudice con conoscenze antropologiche in grado di sapere se il comportamento giuridicamente rilevante di fronte a sé di uno straniero in sede civile o penale sia almeno in parte riconducibile alla cultura d'origine e gli esempi che hai fatto sono molto chiari sulla base di questa comprensione il giudice potrebbe essere indotto ad intervenire sulla qualificazione del fatto atto di pedofilo oppure atto rituale tradizionale e così via sulla risoluzione della controversia ed eventualmente sulla determinazione della sanzione quindi il giudice naturale non sarebbe più solo il giudice predeterminato per legge come normalmente viene definito anche nei manuali ma sarebbe un giudice che è più idoneo di altri a giudicare di quella controversia perché ha una formazione in più una formazione aggiuntiva una sensibilità particolare e così via ecco allora torno ad una delle mie domande iniziali questo è un diritto individuale dello straniero che si trova di fronte al giudice o si può ricostruire come diritto che so io degli Yoruba che è una delle etnie della Nigeria o degli Ibo nel senso che il tribunale a seconda magari anche del tipo di insediamento territoriale che c'è o forma il giudice oppure forma l'esperto culturale questa lo sappiamo bene Olivia Holden c'è tutta questa linea di attività in modo da poter disporre ma perché perché un diritto collettivo di esercizio individuale quando lo Yoruba va di fronte al giudice sa di poter fare affidamento su queste cose e l'ordinamento tutela la propria comunità di Yoruba insediata sul territorio attraverso queste cose un po' come quello che leggiamo nell'intesa con la confezione buddista in cui in buona sostanza lo Stato si impegna a riconoscere ai membri dell'unione buddista lo Stato di obiettore di coscienza e quindi di non essere inviato a servizi armati e così via allora se sei membro e quindi se l'unione buddista dice allo Stato italiano si pinza che il tizio che il sempronio sono nostri membri allora quando vanno alla leva li mettono adesso non è più obbligatorio ma qualora dovesse essere obbligatorio questo secondo me sarebbe un altro caso di diritto collettivo dato alla minoranza e come ai ladini riconosci il diritto alla scuola e alla lingua latina a parlare con la pubblica amministrazione agli uruba interessi però deve essere organizzato appunto in forma collettiva perché se no torno a dire non è più un diritto individuale perché se è un diritto individuale può non essere ripetuto poi quando arriva un altro uruba un terzo ancora e così via cioè riusciamo e quindi non è più una garanzia ecco volevo sollevare queste due questioni allora stiamo raccogliendo il professor Rossi penso che sì ah beh c'è anche da qui va bene no dunque intanto grazie perché veramente ci sono state date molte suggestioni e anche molte considerazioni utili non insomma alcune cose le vorrei dire domani ma anticipo in qualche modo una sensazione e cioè che questa difficoltà no a identificare che cosa sono le minoranze e e quindi anche a ricostruire una nozione per poi non solo così a fini culturali ma poi a fini poi prescrittivi l'ha avverto una forte assonanza diciamo col tema delle confessioni religiose dove le considerazioni e le riflessioni che abbiamo fatto potrebbero essere quasi automaticamente trasferite però proprio questo parallelo mi suggerisce mi suggerisce una considerazione e cioè che la giurisprudenza costituzionale ma insomma in generale possiamo dire l'ordinamento nei confronti delle confessioni religiose ha chiaramente affermato e stabilito che ciò quelle confessioni che hanno l'intesa non sono le uniche confessioni religiose tutelate dall'articolo 8 quindi questo è del tutto pacifico che ce ne sono anche altre che meritano però c'è un elemento che in qualche modo quindi questo ci potrebbe far dire che anche per l'articolo 6 come appunto abbiamo detto anche quelle che non hanno nessuna forma di riconoscimento giuridico hanno diritto ad essere tutelate garantite eccetera eccetera allora però come si potrebbe azionare questo come si potrebbe rendere effettivo questo secondo me sarebbe opportuno che come si fa per le confessioni religiose ci fosse quello che Roberto ad un certo punto accennava una personificazione o un l'identificazione di un di un elemento di rappresentanza per la confessione come per le confessioni religiose c'è quando queste si costituiscono a persona giuridica tant'è vero che il problema dell'intesa con il musulma con l'islam è proprio reso difficile oltre dal fatto che sono insomma tante realtà diverse ma che non c'è un soggetto che identifica con personalità giuridica e che può interloquire con il governo per l'intesa e allora questo mi fa dire che forse una un passaggio da proporre o da pensare o da studiare sia quello che queste comunità si diano una qualche forma di personificazione e prima di non so ecco ve lo domando prima di iniziare parlavo con Luca Gori che è un grande esperto di terzo settore e dicevo ma una minoranza linguistica potrebbe essere un ente del terzo settore perché questo forse diciamo oggi volerebbe poi anche allora a quel punto l'ente opera a nome della minoranza e dice io pretendo di essere tutelato ai sensi dell'articolo 6 anche se non ho nessuna forma di riconoscimento dalla legge 482 o dagli statuti regionali e così via ecco non so se questa costruzione o questa idea ma risponde un po' a quello che diceva anche Roberto della re ora regina cioè bisogna andare dal re ora regina o si può andare semplicemente dal presidente di un'associazione qui sarà molto interessante sentire domani sulla comunità cinese sì direi davide dai no ma sulle minoranze storiche se c'è una definizione legale precisa di minoranze storiche se ci si può rifare i lavori parlamentari della legge se dice qualcosa perché avevo letto appunto che c'è dottrina che parla di minoranze prima della costituzione volevo sapere questo e l'altra cosa un po' sulla scia mi domandavo un conto credo sia se il legislatore possa estendere la tutela e un conto è se il legislatore debba estendere queste tutele e ovviamente mi riferisco ai diritti diciamo individuali esercizio collettivo quelli che mi sembrano connotare maggiormente e allora la mia domanda appunto è che limiti incontri perché l'articolo 6 necessita in qualche modo di un ruolo del legislatore e quindi che limiti incontri si può chiedere se appunto è ragionevole la limitazione di questi diritti e a Ilania Ruggio chiedo se ho capito bene ha distinto lingua e cultura però minoranze linguistiche un po' era emerso anche non si tutel bene tutelato dall'articolo 6 non credo sia la lingua minoritaria ma appunto i gruppi sociali che in qualche modo sono connotati dalla lingua quindi in qualche modo la cultura è già dentro probabilmente però torniamo sempre allo stesso discorso cioè perché non è ragionevole che il legislatore limiti queste garanzie appunto utilizzando dei parametri quali appunto anche il radicamento nel territorio o appunto la storicità eccetera eccetera cioè se andiamo nella valutazione della ragionevolezza dei limiti ecco forse abbiamo qualche cioè abbiamo dei margini di discrezionalità che dobbiamo riconoscere al legislatore ecco un po' su questo volevo sì perché c'è anche il dato economico di questo del commercio allora per ogni tribù o ogni atelier nigeriana devi fare degli insegnamenti a carico di contribuente di verità bene facciamo direi a questo punto se non ci sono altre questioni un tour de table tutti quanti ripartiamo in ordine va bene poi se abbiamo ancora forza faccio un commento allora un breve commento riassumo un po' tutti gli spunti che ho tratto sul tema della grado di partecipazione volontà unitaria che citava appunto menzionava sia il professor Tognatti che il professor Rossi ricordiamo che la capotorti che è l'unica definizione anche se non giuridicamente vincolante parla di volontà anche implicita anche se implicita quindi facendo riferimento per esempio alla realtà di Bolzano lì ci sono delle comunità come quella del Bangladesh o cinese che per esempio si organizzano con propri finanziamenti per fare scuole della domenica per il mantenimento e la promozione della propria lingua tradizioni eccetera così come in tante altre realtà quindi per me questo è già un segno se vogliamo una volontà implicita di comunque mantenere una certa coesione mantenimento del gruppo eccetera sull'episodio dei rome professore ma anche dei studenti che chiedono l'insegnamento in inglese beh in Sardegna fino a pochi anni fa ma credo tuttora molta borghesia diciamo cittadina sicuramente preferirebbe l'insegnamento qualsiasi tipo di insegnamento in inglese piuttosto che del sardo sicuro proprio sicuro adesso le cose sono un po' cambiate per una certa parte della diciamo della classe più elevata diciamo ma la classe media borghese vuole sicuramente più inglese non più sardo quindi se lo si va a chiedere a loro certamente tutto il tema della promozione l'altro tema della rappresentanza e ricordiamoci anche che per esempio una delle battaglie della Eva Klotz per esempio è proprio il fatto di voler far in qualche modo rivotare con un referendum il sistema di autonomia perché effettivamente l'autonomia stessa era stata decisa da un partito da il partito di maggiore rappresentanza ma non era stato chiesto in effetti Nel accordo dei gas per il governo si diceva sentiti elementi Sì beh insomma è diverso da un referendum è diverso da una sorta di consultazione ecco quindi il tema della rappresentanza anche fra le minoranze che si considerano maggiormente rappresentate beh anche lì e poi volevo rialaccermi al tema del riconoscimento del gruppo eccetera e questo è concordo con Valeria fondamentale perché è alla base anche della giustificazione in un certo senso di un trattamento differenziato non solo perché la minoranza lo debba richiedere se lo necessita eccetera ma soprattutto nei confronti della maggioranza e allora proprio riferendomi al tema dei rome sinti ad esempio in quegli ultimi in quegli ultimi episodi accaduti a Roma delle assegnazioni eccetera la famiglia che poi è stata cacciata questa famiglia in base a diciamo una legge che era stata approvata un regolamento comunale sotto alle manno quella famiglia poteva avere assegnata quell'alloggio perché aveva già 18 punti di bonus diciamo perché usciva da un campo nomade e quindi di conseguenza aveva questo privilegio diritto eccetera allora è ovvio che agli occhi dei italiani non Rom che si vedono scavalcati poi ovviamente c'erano altri requisiti famiglie numerose eccetera ma già il fatto di uscire da un campo Rom questo gli dava questo bonus e quindi è chiaro che o si negozia con la maggioranza si fa capire perché questi gruppi hanno un qualche diritto in più perché eccetera eccetera altrimenti è chiaro che non se ne è è lo stesso se posso una piccola nota sulla proposta di legge di Francesco adesso io ho letto una bozza poi non so se fosse c'era un punto però corregimi se sbaglio e forse poi era stato corretto in corso d'opera in cui le aree attrezzate per residenza eccetera venivano ad un certo punto assegnate anche contro la volontà dei comuni cioè se il comune non cioè silenzio assenso diciamo questo è dirompente cioè ma io mi immagino mi sarei immaginato in caso di barricate per proteggere le aree che potenzialmente potevano essere occupate da ovvio no nel senso non è contro la volontà però siccome spesso i comuni non rispondono alle richieste allora si era detto in questa bozza che però Francesco corregimi se poi è stata modificata quindi lì si può trovare che nel caso di inattività a quel punto ad imperio il gruppo poteva piazzarsi no è questo ovviamente si infatti ma la motivazione ovviamente la motivazione era quella però non mi sembra eccessivo è la stessa legge trentina e io ho parlato con uno dei consulenti fra l'altro di Milano che era stato chiamato appunto per una legge perfetta come diceva Valeria ma totalmente vuota inapplicata anche lì secondo me si è mancato di negoziazione con la maggioranza cioè lì si è lavorato tanto lì si è lavorato invece tantissimo con le comunità i clan lì è la i clan si è lavorato tantissimo ma non si è lavorato invece con le comunità diciamo che dovrebbero accogliere questi famosi aree residenziali eccetera eccetera e quindi qui torniamo a quel punto che ho sollevato io bisogna coinvolgere le maggioranze e bisogna che anche le minoranze abbiano un atteggiamento accomodante in un certo senso ecco adesso abbiamo Ilenia allora per quanto riguarda il giudice naturale è vero che in molti manuali viene appunto e qui diciamo la formula lo si spiega come quello precostituito per legge ma come è noto le disposizioni costituzionali devono essere interpretate magis ut valeat quindi siccome proprio lo stesso lemma successivo che parla di precostituito per legge naturale dobbiamo dargli un altro significato e quindi su quello appunto concordiamo però è vero che questa lettura del giudice naturale come giudice del borgo tra l'altro non è mia di Giulio Ubertis che è un processual penalista di Milano che appunto l'ha sostenuta rispetto appunto al quesito di creare appunto a questo punto una rappresentanza degli Yoruba e degli Ibo che possano degli albanesi che possano spiegare ovviamente aiuterebbe a rendere effettivo questo diritto ci ho detto penso che potrebbe anche funzionare cioè penso che il giudice abbia questo dovere che il diritto sia individuale di ciascun imputato potrebbe per esempio se non si riescono a organizzare o anche perché magari c'è un solo componente che si fa se capita il caso di un unico migrante di quel gruppo e la delegazione cioè dove si forma questa rappresentanza per esempio un modo con cui si potrebbe ovviare creando allo stesso tempo uno strumento utile al giudice è l'elaborazione di un manuale delle pratiche culturali fatto bene ovviamente non un bignami o un report coloniale delle culture però una cosa fatta bene con antropologi e giuristi che il giudice potrebbe consultare per un mero obiettivo quello di conoscere le pratiche quindi la tua soluzione sarebbe quella ideale non sempre secondo me è fattibile non è fattibile nei casi di migranti individuali e non è fattibile nel breve periodo perché presuppone problemi di organizzazione dei gruppi quindi magari sarebbero in grado non so di farlo non so anche i marocchini che magari hanno un po' più forza consistenza però penso che bisognerebbe cercare di garantirlo per quanto riguarda la ragionevolezza dei limiti sì ovviamente sono d'accordo che ci sono però appunto l'obiettivo forse anche della domanda di questo convegno era cercare di spostarli più in là perché per esempio sui rom e sinti effettivamente l'esclusione dei rom e sinti dalla 482 diciamo tutti l'abbiamo percepito almeno io l'ho percepito come irragionevole cioè sì la territorialità però insomma loro sono una minoranza che esiste arrivata in Europa nel 1400 in Italia poco dopo e quindi però certo non immaginando non so delle comunità più radicate i cinesi i marocchini in Italia che sollevino una questione di costituzionalità sulla 482 con la corte che fa un'additiva per includerli perché magari non lo so ora sto lavorando un po' di fantasia però usando non lo so anche il general comment il requisito della permanenza non è proprio così o comunque come lo calcoli sono 80 anni o 200 quindi cosa vuol dire appunto anche la territorialità per questi gruppi che la territorialità ce l'hanno interi quartieri interi città e allora insomma storicità e territorialità potrebbero rendere l'esclusione ragionevole ma anche no non so bisognerebbe un po' vedere caso per caso anche la territorialità è un concetto discrezionale eh sì 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 parlava di province ma le province non esistono più sì noi sì voi sì voi sì allora dunque Rom e Sinti rappresentanze e quant'altro allora io ho partecipato qualche anno fa anche tu a quel convegno organizzato da Paolo Bonetti a Milano dove si era poi creato si erano creati anche degli aspetti un po' , no violenti no un po' critici un po' critici tra gruppi Rom e Sinti allora Rom e Sinti non vanno molto d'accordo da quello che che mi consta quindi anche trovare una rappresentanza bisognerebbe trovare almeno due cioè dialogare con i rappresentanti ammesso che esistano dei due gruppi separatamente quindi si potrebbe allora in questo modo anche arrivare a un riconoscimento solo dei Rom e non dei Sinti o viceversa però lo vedo un po' problematico un riconoscimento formale comunque farebbero un'ascissione esatto un'ascissione poi con chi intrattenere questo dialogo come individuare i rappresentanti altro convegno a cui ho partecipato più di qualche anno fa nel 2015 a Teramo era stato organizzato da un linguista da un collega linguista e in quell'occasione sul plurilinguismo era una cosa molto vasta in quell'occasione ho conosciuto il rappresentante ora non so come sia stato scelto dalla sua comunità della comunità Sinti residente in Abruzzo che era molto seriamente motivato e presentò e mi inserì anche inserì anche il mio nome nella relazione introduttiva di presentazione al Parlamento di una proposta di legge molto molto semplice in cui si si immaginava appunto un riconoscimento però sia dei Rom che dei Sinti a livello era una proposta di legge fatta al Parlamento molto semplice perché non vogliamo né modificare la legge 482 né un provvedimento così articolato come la proposta Palermo una cosa molto semplice una sorta di legge quadro un'ulteriore legge quadro che poi aprisse alla regione Abruzzo ma tutte quante le regioni la possibilità di intervenire con leggi di dettaglio soprattutto in materia di valorizzazione però culturale perché poi più di tanto le regioni non è che possono e anche quella è una proposta che non ha avuto molto semplice molto basica direi che però non ha avuto nessun seguito ecco questo era un rappresentante della comunità Sinti abruzzese ora come sia stato lui individuato dalla comunità Sinti io questo non saprei dirlo però certamente il coinvolgimento che poi è uno anche degli aspetti che appunto prima lo ho sottolineato poco ci viene molto spesso rimproverato dagli organismi europei che ci monitorano uno degli aspetti che andrebbe di più valorizzato è proprio quello di intrattenere di coinvolgere le rappresentanze di queste comunità e di instaurare un dialogo poi certamente anche con la maggioranza e ancora prima se parliamo proprio di Roma e Sinti a livello quando diciamo di maggioranza io intendo proprio della popolazione di tutti come diceva dalle scuole elementari cioè quelli che sono gli stereotipi i pregiudizi la disuguaglianza e la discriminazione io credo che prima di tutto bisogna lavorare anche su questo forse prima di tutto bisogna lavorare su questo quanto hai alle analogie con le confessioni religiose di Roma e Sinti in particolare allora appunto le confessioni religiose con cui sono state siglate delle intese sono delle confessioni religiose che noi conosciamo ben individuabili e già i Roma e Sinti sono camminanti sono vari gruppi forse si dovrebbe pensare a instaurare appunto colloqui dialoghi intrattenere quindi i rapporti con i singoli gruppi eventualmente cioè mentre le confessioni religiose sono abbastanza sono ben individuabili ci sono i testimoni di Geova c'è la tavola valdese c'è la comunità ebraica i buddisti e per le comunità linguistiche almeno Roma e Sinti bisogna fare una serie di sottogruppi i buddisti hanno fatto un'intesa con Sokha Gakkai poi c'è l'unione buddista poi c'è l'unione buddista quindi anche lì c'è una l'islam è tra l'altro una varietà sono tanti mondi se vuoi anche nella chiesa all'interno dei cristiani che cosa sono tutte le tante gruppi con gli avventisti certo sì 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 e non si è detto ai cristiani come all'islam dovete essere tutti insieme no all'islam si è detto appunto all'islam si è detto come nel caso dell'islam perché io posso scusami perché su questo tu hai finito volevo dire altre due piccole cose legate sempre all'intervento di Emanuele brevissime la persona non sono persone giuridiche le minoranze linguistiche non sono persone giuridiche cioè perché tu dicevi giustamente pensiamo alle confessioni religiose quindi a una personificazione e se vediamo se si può applicare per analogia questo discorso anche alle minoranze linguistiche bisognerebbe poi superare anche l'approccio del noi siamo abituati a pensare ai membri delle minoranze linguistiche non alle minoranze come collettività quindi bisognerebbe pensare alle minoranze come enti non lo so è un po' forse pericoloso enti del terzo settore sono gli enti del terzo settore non lo so è Sorda Luca Gori dove è andato proprio ieri ho organizzato un seminario a Roma sul terzo settore associazioni che senza scopo di lucro svolgono attività ora che le minoranze linguistiche possono essere anche enti del terzo settore mi sembra andare un po' possono costituire ah costituire loro quindi delle associazioni ma mia 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 idea è venuta scusate ma gli ati e agnostici razionalisti che hanno fatto un'associazione che chiaramente non raccoglie tutti gli ati e agnostici razionalisti italiani svolgono attività sono andato dal governo e a dire faccio un'attività si si questo dovrebbe essere un esempio che mi ha si si ok un po' fantasioso mi sembra un po' fantasioso ok stop grazie io non ho altro da aggiungere no 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 sono andato proprio in ordine sparso davvero a chi cedo a me dispiace Francesco perché tu hai posposto il tuo intervento sono cose talmente interessanti che insomma siamo poi anche in un formato che è quasi salottiero io ecco quando l'UAR è andata al governo il governo ha detto no l'UAR poi è andata alla corte costituzionale la quale ha detto che la scelta se fare una intesa se arrivare ad una intesa è un atto politico da questo punto di vista discrezionale e non sottoposto a giudizio per l'amore del cielo questo è poi legato anche a un'altra circostanza è che c'è una linea di condotta del governo italiano credo anche dichiarata in tempi risalenti in base alla quale deliberatamente il governo non voleva non voleva avere intesa con spezzoni di gruppi confessionali e questo te lo dico perché anche con gli ebrei esiste l'intesa con la comunità ebraica che rappresenta diciamo il mainstream dell'ebraismo italiano ma quando gli ebrei riformati hanno chiesto di avere una loro intesa il governo ha detto di no e credo che se anche gli ebrei ortodossi chiedessero di fare un'intesa a parte che non la farebbero mai ma insomma glielo chiedesse non la chiederebbe comunque il governo direbbe di no e quindi su questo evidentemente dobbiamo rendersi conto che questa materia non è così lineare come potrebbe apparirci e credo che veramente su questo si debba ragionare in termini di ingegneria istituzionale perché appunto giustamente diceva Roberta non abbiamo tenuto conto delle reazioni della maggioranza quindi bisogna in qualche modo che tutti i pezzi siano a posto quando si quindi non è sufficiente dire gli ioruba non sono tutelati ecco bisogna poi capire che cosa è tutto questo ed è veramente arte di governo questa cui purtroppo il giurista non può fare altro che piegarsi però certamente alcune iniziative possono essere prese allora vi dico per chi di voi fosse in zona anche se temo che non sarà proprio il caso che il 3 maggio a Trento presenteremo l'edizione inglese del libro di Ilenia Ruggio sia perché mi sembra molto significativo che l'opera di un giurista di una giurista italiana venga tradotta segnale di apprezzamento da parte di Routledge ma anche perché ci sarà un panel interessante e di questo c'è questa Livia Holden che ha un progetto dell'European Research Council proprio sulla cultural expertise un tema sul quale abbiamo già organizzato due incontri con interesse molto vivo da parte per esempio di sostituti procuratori della Repubblica abbiamo avuto una tese di laurea recentemente discussa sui casi in cui si è utilizzato un mediatore culturale o casi in cui sarebbe stato appropriato utilizzare un mediatore culturale e non vi nascondo che a me non sarebbe dispiaciuto pensando alle competenze amministrative in ordine alla giurisdizione che hanno le due province pensare che le province potessero entrare nell'ordine di idee di attivare un albo locale di esperto culturale o comunque no no per il modo sai guarda se ne forlva tanto il dato vicendezza di aprire l'albo è previsto persino da legge sull'integrazione e non si è riuscita no no per il modo di accelma per questo dico che è un'opera di ingegneria costituzionale però credo che in questi casi anche da tutti gli interventi che ho sentito noi abbiamo evidentemente un interesse scientifico ma abbiamo anche una specie di motivazione civica nel senso che crediamo che le minoranze debbano essere tutelate quindi fare anche questi passetti potrebbe essere tutto sommato abbastanza abbastanza utile ecco comunque se il 3 maggio siete da queste parti il legno ruggio ritorna e ci sarà anche un collega indiano ci sarà anche un collega indiano Arunty Rovengadan che è il nostro visiting professor il quale ci parlerà dei casi in cui il fattore culturale è stato determinante nella giurisdizione indiana e anche questo diciamo è un altro cosmo ecco dunque cosa facciamo adesso avete ancora due più due minuti per dire due cose due più due se no le metto domani prima delle sette che vogliamo visitare il museo che più dalle sette stai scherzando no dai allora solo due flash il primo sulla questione Rom e Sinti è vero che l'associazionismo Rom e Sinto è devastante in Italia in particolare ma è quanto di più deleterio possa esistere per la causa dei loro diritti lo sappiamo anche se sono concorde non concordo sull'espressione integrarsi perché evidentemente di questo non parliamo c'è stato addirittura un disegno di legge di iniziativa popolare simile a quello proprio iniziato da alcune associazioni Rom e Sinte per estendere la tutela della 482 ma naturalmente non si è riusciti nemmeno a partire con la raccolta delle firme su questo avrei una questione per ilenia però perché questo è uno degli esempi in cui c'è un contrasto tra l'esigenza del rispetto della diversità culturale e l'esigenza della diciamo prevalenza del di un sistema basato sui diritti umani l'associazionismo Rom e Sinto e non soltanto in Italia normalmente è basato sulla rappresentatività fondata sulla leadership di maschi anziani non c'è nessuna possibilità di ottenere il consenso della comunità o delle varie comunità se non si parla con si chiamerà re o non si chiamerà re ma insomma sempre un maschio anziano è dove sta il limite di questo francamente non lo so ho avuto moltissimo a che fare col comitato consultivo in queste cose in tutti i paesi dei Balcani la richiesta standard da parte di questi leader comunitari maschi anziani è un seggio riservato in Parlamento che naturalmente dovrebbe andare a loro come ovvia conseguenza come se questo poi fosse la soluzione dei problemi c'è un problema gigantesco e finisco su questo ve lo racconto a cena allora hai ragione tu c'è questa diciamo proposta allora premetto un disegno di legge è un disegno di legge non è una legge naturalmente è uno dei temi che si deve discutere ma c'è un motivo ben preciso che mi riservo di raccontare a cena così qualcuno ha voglia di venire secondo punto vorrei però mettere un po' in discussione e ci riflettiamo e magari ne riparliamo domani la considerazione che è stata fatta soprattutto da Roberta e da Ilenia sulla tendenza espansiva da parte dell'interpretazione delle organizzazioni internazionali allora sì e no negli effetti è fuori di dubbio che sia così ma dal punto di vista giuridico nessuno mai ha parlato di estensione ai gruppi delle disposizioni previste per esempio della convenzione quadro per il semplice motivo che è la convenzione stessa e parliamo di questa ma poi vale mutatis mutandis anche per altri strumenti è semplice non parla mai non definisce mai le minoranze il problema è l'ambito di applicazione e l'ambito di applicazione lo definiscono gli stati nella misura in cui ciò non sia palesemente contraddittorio discriminatorio come dice la convenzione stessa quindi la convenzione si limita a monitorare ciò che gli stati fanno anche in riferimento all'ambito di applicazione stabilendo se l'esclusione di determinati gruppi sia sproporzionato e irragionevole e questo è ciò che viene detto per esempio all'Italia è sproporzionato e irragionevole non includere i rom nella lista delle minoranze nazionali non c'è quindi una questione dell'estensione questa è stata l'interpretazione politicamente in voga da parte di molti stati che sono terrorizzati dall'idea di utilizzare questo strumentario per riferirsi a gruppi che loro vogliono invece includere in determinate altre cose ma quello che si dice soprattutto nel quarto commentario tematico alla convenzione quadro è che ci sono tre tipologie di diritti previsti nella convenzione quelli pochissimi che si applicano a tutti coloro che risiedono nel territorio di uno stato che sono l'articolo 6 e il 12 cioè la promozione della tolleranza del dialogo vabbè bla bla poi ci sono la maggior parte di questi articoli che sono valutati articolo per articolo allora se escludere non determinati gruppi non danneggia l'integrazione non dei gruppi delle società nel loro complesso allora è possibile una interpretazione ampia che però spetta sempre agli stati e allora si dice se la Finlandia riconosce i Rom e i Sinti come minoranza indipendentemente dal criterio della cittadinanza può benissimo farlo ma se un altro stato decide di limitarlo soltanto ai cittadini può benissimo farlo allora non c'è un criterio di estensione e poi ci sono tre previsioni che si limitano che sono molto limitate sono state ricordate a territori di insediamento tradizionale o in numero considerevole e sono l'uso della lingua nei confronti della pubblica amministrazione l'atto ponomastica e l'istruzione nella lingua della minoranza questi sono diritti che valgono soltanto per minoranze che abbiano questi criteri e quindi non diciamo quelle nuove ma parlare di estensione è un'interpretazione politica che è stata data da degli stati e da scusate alcune organizzazioni delle minoranze gelose a Fuen in particolare gelose della loro tradizionale storica fetta di torta ma da un punto di vista giuridico credo che sia opportuno segnalare poi c'è un altro punto di domanda che mi limito soltanto ad accennare ammettiamo che non si debbano applicare le disposizioni di nessun tipo per le minoranze altre quali strumenti utilizziamo ma ce ne sono degli altri non ce ne sono degli altri accessibili e il giurista che cosa fa va a pescare l'interpretazione da ciò che è un pochettino più vicino analogo non ci sono strumenti per i diritti dei migranti salvo la convenzione sui lavoratori migranti sappiamo che non ha praticamente effetto e alla fin fine gli strumenti sempre quelli sono diritti di partecipazione soprattutto diritti di partecipazione diritto al rispetto della diversità culturale e sono sempre gli stessi sempre quelli sono per cui alla fine mi pare una questione molto esagerata rispetto alla portata reale basta a cena vi racconto la storia assolutamente a maggior ragione grazie a tutti grazie a tutti